e ci dovremmo essere a posto intanto io copio seconda parte intanto linko qui ok e niente dai allora andiamo io agente siamo sempre qui facciamo facciamo sempre cosa dobbiamo fare quarta quinta e sesta vai let's go vedi dove è già po perché aspetta come eravamo qui sì dove c'è l'aeroplano e non ti vedo si giocando con dario messa si ok digitale sede di tango quindi roba grossa sott'acqua è vero perché non è il giappone poi più in là che cazzo sto dire proprio in mezzo all'oceano pacifico lo avevo dai vado io è ok vediamo l'alore dell'episodio ah ok abbiamo riuscito siamo riusciti bene quindi io dove vado fisicamente siamo tutti e due hacker sta missione non ho capito cioè non sembrava un luogo lo vorrei vediamo ah vedi sono vicino a te vedi mi vedi sono davanti a te cioè io ti vedo su ah te mi vedi in 3d eh esatto seduto seduto con perché te non mi vedi no no io sono nella dark net dentro nella dark net perfetto ma io non ho capito fisicamente dove siamo subito dimmi l'indirizzo IP della dark net vai no aspetta non sto capendo dove siamo non ho capito fisicamente dove siamo comunque lì ecco ti dico io è 186 io sono nel solito mondo cuboso incredibilmente c'è digitale e va eh sei esatto netrunner 236 236 236 e 161 e 126 intanto attivo la chat non so se qualcuno ha già scritto non credo vai si entra abbiamo ah non ho letto cos'è che tocca a fa non lo so sta facendo un minigioco di corsa si l'ho visto e non ho capito vedi dici che il signore di connessione è scarso ok dobbiamo sistemarlo eh ma io non so come sto facendo io a sistemare c'è una roba tua mi sa ok guarda qua ne vigo in mezzo ai file digitali guarda che roba le cartelle non ho capito cosa devo asco ecco e fa il connect ripara dos need to repair dos not e cosa e cosa c'è da riparare nota conto fix mi dice a me nota conto fix mi ripete in continuazione nota conto fix nota code fa vedere l'elenco delle funzioni scan network ed è uguale a maggiore force ed esatto dimmi cosa ti devo riparare ecco scan network ho avviato seleziona ah ecco è partito sì la barra di caricamento ecco sta aumentando eh sì sto facendo riparare devo smanettare a caso ok posto completato ok perfetto ora abbiamo più 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 wifi ah ok ti ho dato due chaffi non so cosa sono il proxy allora server valore più alto proxy valore medio database valore più basso allora io sono ok ho visto che sei entrato in un ah ti dovevo dire io forse se mi devi dire l'ordine in cui prendere i numeri sono una strada sbagliata ritorna coordinate router qual è dimmi una 222 222 m1 si 7 z s s s s no no 5 scusa porco zio in 5 ecco ok adesso devo di nuovo riparare ho capito adesso andiamo no sbagliato maxi signal connection indirizzamento in corso nota conto fix ma io ancora sono ah eh mi devi riparare maxi signal connection perfetto sì sì sto assaggio al server di di cypher 2 su 8 ok occhio ci sai due dietro due dietro c'hai uno nella ecco così non ti colpisce no vai giù vai giù dove eri prima per favore ok ora vai ok giù 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 torna giù resta fermo resta fermo resta fermo no e chi da me ci sono anche degli ostacoli viola non so se eh no non lo so io cosa posso vedere allora ci sono dei numeri 0 14 database 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 valore più basso ok database intanto di dopo riparo accrediti non so cosa siano 23p perfetto siamo 6 1 t si a ok acc perfetto lascio quello l'uea perché cosa c'è da riparare 2 3p emulate signal e transmit packets 2 3p acc eh è morto cavo è difficilissimo vabbè abbiamo capito allora 3 9s acc ok quello lì è messo bene per ora non c'è niente da riparare ok c'è 7 6l acc sempre ok te vai giù che ti sta arriviamo uno da dietro perfetto resta fermo resta fermo non mai li vedo quelli viola eh ah ok c'è sono quelli ah beh adesso è scomparso cosa c'è da riparare ok serve 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 riparazione wifi connector ok e su accrediti quale vuoi si allora bersaglio che gigabyte questo oddio questo è come bersaglio 6.6 gigabytes allora te diventare su ok fatto fatto questo come lo disattivo invece allora allineare ok no sta fermo orco 2 come si fa questo eh aspetta non lo so ah no a non allineare ok a me va bene così allora se non è allineato il tuo partner deve allineare questi due stick e come faccio da me dice non allineare porca puttana non capisco i tasti come funziona eh no neanch'io io posso fare x con x triangolo vado su e giù quali tempo scaduto va bene rimani lì sta fermo cosa devo riparare allora augments signal e ping root vabbè dopo in caso perché no com'è dove ci dici ping root no ho sbagliato c'ho mille robe augmente ehm augmente ok si lo sto riparando ping root ping root fast mode true si si l'ho visto ti intanto schiva quei due ce ne hai due a lato uno dritto ho visto si ma io mi dice che io con la spot selezione r ma eh questo qui ecco vai oh schiva schiva dai occhio si si ma ehm smanettati qualcosa no da me posso solo fare triangolo e allinearli non allineare ecco tempo scaduto ah io non ho capito cosa devo riparare scan network forza com'è? scan network si eh vabbè vabbè io ripararlo dopo forse perché adesso ci abbiamo meno tempo per l'enigma c'è scritto chiedi al tuo partner quali stack allineare ah il terzo col primo ordine dello stack non vabbè il quinto il quinto con il con il terzo con il secondo ma che vuol dire quinto secondo ordine dello stack non valido 3 e 4 cioè l'altro lo devi muovere te io posso muovere solo un lato capito eh ma non me lo fa muovere vabbè vabbè aspetta ok rivediamo allora c'è scritto chiedi al partner quali stack allineare io posso solo far su rimescolare ok 2 e 4 va bene ah devo no ma io semmeno me lo fa spostare io ho una mano che punta tra il 3 e il 4 si anch'io quando perché noi dobbiamo sedere poi con triangolo x vai su e giù da me così no da me è ci sarebbe r sposta selezione ma no e no dopo anch'io vado su un altro giochino occhio che ti stai schiantando ok se c'è qualcosa no e risposta selezione no c'è qualcosa che devo dirti da fare io cosa devo riparare max signal connection e emulet signal si sto riparando eh e l'altro cos'è che hai detto? emulet signal emulet allora io c'ho moduli ah no emulet io c'ho lineare verde il 3 a sinistra e a destra il 4 eh io posso togli quello quello a destra ci posso pensare io non so non so perché a me non funziona no aspetta non ho capito allora r ti vedi se smanettando qualche altra data eh io posso andare solo su e giù adesso lo rifacciamo un'altra sì allora perché ti c'è il tuo partner devo lineare questi due stick oh vabbè chiedi al tuo partner quali stick lineare quindi io posso avere il controllo anche di quell'altro in teoria eh ecco io vedo che sta spostando no al secondo no? cioè quello a destra io c'ho quello verde e sinistra ordine dello stack non valido eh sì perché ho fatto macelle io non è che devo guardare qualche pro no tanto perché non mi va dall'altra parte mi fa solo cambiare gioco tra virgolette o sai che non ho capito boh aspetta che c'è da riparare che sennò dimmi cosa c'è da riparare allora transmit packets e wifi connector ok allora per qua dici sì mi sa che non devo fare niente dice il tuo partner deve lineare questi due stack ma lineare che vuol dire? sì io posso muovere poi il bello che non è che li muovo direttamente io spostando quel cursore eh ti si sposta esatto ti scala però dopo che io l'ho scalato per di ah no ho capito posso switchare io però non posso andare dall'altra parte quindi dimmi non cos'è che devo allineare due tre cioè da a sinistra c'è il tre verde e a destra il di vabbè vediamo il prossimo forse ho capito senza riparare dopo ripariamo e dimmi adesso il quinto a sinistra il terzo a destra e il quinto a sinistra e il terzo a destra e poi a destra non ci posso andare e deve fare allinea su quello a destra e l'ho messo sul 5 Ah, non allineare, ok Cioè, metti uno sul 5 Metti quello a destra sul 5 L'ho messo Da me è il 2 Ah, da me Ah, ok Oh, ecco, adesso sì Oh, ok, vedi, adesso ho capito Devi far quel cotè anche, vero? Non io non devo fare niente Cioè, devo premere solo il quadrato quando erano allineati Ah, ok Però, eh, perché non erano Sì, si temi, dovevi dire qual era Quello bifido, diciamo, perché io ne vedevo Solo quello negativo, non vedevo Quello giusto Adesso che roba è qua? Quella è la cosa Dati più facili Quindi sono le robe che ho raccolto E sono i 14 E quindi? Ah, no, valori dati per... Su 200 Insomma Raccogli bit di dati Ah, devi spostare il cursore Sposto al cursore Raccogli bit di dati Raccogli bit di dati Ma con che tasto? Ah, io lo posso fare Con X Ah, sì, anch'io In verità Però solo i rossi Io riesco a prendere Ah, ok, io i verdi I blu, i blu, sì Cioè, non so Non so che colore c'hai te Io sì, il blu No, ho sbagliato No, no, non prende quello Madonna Tipo, spara tutto su Più dieci dati Come no? Immaginavo che si inventavano qualcosa di particolare per le ultime Almeno sono vari e non sono sempre uguali Quanto manca? Poco Perfetto Ed è? A posto Non ci sono neutralizzate Ah, quindi forse è un po' una modalità leggermente competitiva Ok, torniamo Infatti Adesso vediamo Su accrediti cosa vuoi? Che vedrete? Allora 3838 Io c'ho Ah no, posso scorrere C'ho nove pagine Io c'ho Allora, io c'ho una griglia di nove Io c'ho una scala Un simbolo scala Qual è il tuo primo? Il simbolo scala, ok Dopo? Eh, dopo Ok, 3171 Io c'ho Il simbolo E qua anche Che numero? 3171 Questa non è la chiave giusta Mi dice No, allora 2132 Come? 2132 Sì, è questa Mi ti pin con il tuo partner ti dieci di farlo Va bene Ah, vai Ok Io parto E parto Ti dico il metri angolo Vai Vai Quasi Sì, te l'ho detto prima In verità Proxy 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 Qui c'è da riparare nel frattempo Non mi dice niente ancora Augment Augmentare Signal Ah, gli augment Allora Bersaio Ah, c'è da fare 1 GHz Adesso sto riparando Lo facciamo Vado Quanti minigiochi Ci so Quanto è 1 e 1 1 1 1 e 6 E quant'è? Così? 1.6 Non è così Infatti Ma te sei il blu, eh? Eh, io sono su 1 Eh, 1 e 6 1,6 Eh Ok, io c'ho Allora, voi fa ping o rete? Allora, fa il ping Fa il ping Ti dico Ti dico Vai Sì, ciao Vado, eh? Facciamo il ping Vai Ora No, perché così in ritardo? Vado, eh? Vado, eh? Oh, vai No, te lo devo di prima Oh, vai Ok, perfetto Allora, lineiamo Allora, io c'ho A sinistra L'1 A destra Il 5 Orca vacca Quello era più Ah, c'è il tempo Perché Eh, sì, sì Vabbè, vabbè Non impone Non ho capito Allora L'1 Allora, ti sposta A destra Eh, sposta a destra Ti dico Allora Ancora Ancora Vabbè, tempo scaduto Ah, cazzo Ah, perché C'eramo tre vite Ho capito Quando ci dà il game over Quando le tre tacche Del wifi Su a zero Non ci pensavo Allora Allora 4.8 4.8 Sarà così Quasi cinque No Ma te sei su quattro Eh Ma di da 4.8 Eh Eh Vai su 4.8 No, ho abbandonato la partita Ma non è tipo Io quattro Ti devi fare il punto otto No, no Dovremmo coordinare Ma prima Dovremmo fare entrambi Vabbè Ti rinvito intanto Tanto ci farà di partire da qui Dovremmo fare entrambi sulla stessa Eh, sì, sì, sì Sì Abbiamo Siamo andati sullo stesso valore Eh, questo è tosto Perché è tutto minigiochi Da fare veloci Io non ho capito Mi sa che siamo in aria Tipo su un aereo Stealth Ecco Abbandonato Quindi adesso attendiamo un attimo E Che volevo dire Dato a nullo Dicevo che questo I quelli di Clever Plays Avevano fatto un altro gioco Che nella prima puntata Evo sbagliato a dire Perché la wiki era sbagliata Che è tipo Lipo Fate Che è tipo un isometrico Però Mi sa solo per android Insomma cellulari Adesso dovrebbe essere tornato Dario Vediamo Provo ad invitarlo Tana Attendiamo Tanto lui Dovrebbe tornare Nel party In automatico Ok perfetto Te Dario Ti è arrivato Ti è arrivato L'invito Si Si intanto Mi sta ricollegato E dopo l'altra volta Era fatto subito Io pensavo Che perché Non so L'altra volta Magari eravate connessi In più di uno Nel wifi Ma non è vero In verità Quindi adesso Clicchiamo qui E poi facciamo Riprendi Giusto Com'è che era E ci dirà Di riprendere Quando è che ci diceva Di riprendere Ti hai fatto salta Io Ci dirà adesso No Io mi ricordo Che Annalcetta Ci diceva Perché è da capo Non salvare un cazzo Vabbè Forse perché È tutto un minigioco Di fila Dai facciamolo Allora Niente Indirizzo IP Vai 1 9 4 2 4 9 1 9 0 220 Io penso Che questo Lo considera Un minigioco Unico Almeno per la prima parte Adesso che siamo Un po' Esperti E sappiamo Cosa dobbiamo fare Intanto Riparo subito Una roba Dimmi cosa Perché almeno Non ti dice niente Da riparare No Perfetto No infatti E abbiamo solo due tacche Di wifi Provo a sistemarlo Ok ora si Cosa devo riparare Augment signal Su accrediti Cosa devo fare Non ho capito Cosa sia Cosa devo mettere Su accrediti Non lo so Non mi dice niente Qual è Server proxy database Proxy Ce l'ho adesso Valore medio E non lo so Accrediti Accrediti Non so cosa vuol dire Cioè io ce l'ho Su 14k E resta così Non lo so C'è il debito Per raccogliere Delle cose Mentre Fai Sì 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 Sto Fa un minigioco Stupidino Vai Schiva Schiva Rimani Allora Adesso schiva Questo ostacolo Poi torna Sulla linea centrale Subito Subito Sulla linea centrale Rimani ci Per favore Vai giù 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 Destra Bravo Su 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 Vabbè Cosa c'è da riparare Database 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 Ok Cosa c'è da riparare Intanto Niente Sicuro Ingrotto Fast Molt True Ok 23p 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 ACC Muoio Eh sto riparando Perché Max Signore Connection Ok Dimmi Ok Prima Guadagniamo Un po' De vite Se perdiamo La connessione Fai Perché Mentre sto Riparando Ecco Perfetto Siamo Alla Mastra SCC 39 SCC Oddio Muoio No te l'ho messo Ah solo che Ma a me mi ha detto Che l'hai aperto Dopo mi servivo Fò sbagliato Io Vabbè Perfetto Speriamo che non Dimmi Intanto Se tu vedi Io Pena vedo Qualcora 14k ACC Perché io Sè cosa ho fatto Ho premuto X una volta di più M'è andato Su quello sotto Però non te l'ha Chiuso Allora ho detto 23p 23p Ok C'è un inseguitore Nella linea centrale Nella linea centrale C'è un inseguitore 14k Ti rimani lì Rimani lì Non te muove Perché dopo c'è un altro Poi No No Senato proprio Non dovevi andare Infatti hai detto Non te muove Eh no Perché c'era un collezionabile Server Server Intanto riparo Cosa riparo Non mi dici niente Ancora Modulate connection Ah il primo Se non mi ho esposto Quando ci sono i servitori E base No perché Ci sono anche Anche da me Ecco allora 1.8 1.8 Quindi qui Aspetta ci devo andare Anch'io No 1.8 Sarà qui Tipo Perfetto Minato minigioco Allineo Questo mi rompe Orca miseria Allora Dimmi Io a sinistra Ho il 5 Verde Eh io dove Devo A destra Vedo il 3 Quindi quello verde Da me è il 3 Deve arrivare Il 3 Che da me è verde Deve arrivare Dal 5 A sinistra Quindi Così Se è salito Ho capito Sbagliato Perfetto Perché è un Arrangiamento Scomodo Dimmi Così Il 3 E adesso C'è il 3 Verde E a destra C'è il primo Eccolo Eccolo E' andato giù E' andato giù Di 1 Eh però c'è quello lì Che non lo allinea Non so come fa il contrario Dimmi un altro Veloce Il 2 Il 2 verde E a destra c'è il quinto Su 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 di 2 Eh no ho sbagliato C'è troppo poco tempo Riparo Dimmi Emune signal Poi il 2 verde A sinistra E a destra c'è il 4 Il destra deve salire di due posizioni Sostanzialmente Il 4 deve salire di due 1 No ho sbagliato L'ho avvassato 1 2 E poi lo allinea con quell'altro Ah perché lo posso spostare Va bene Dimmi Eh A sinistra il 3 A destra Su 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 di 1 C'è il 4 E' verde Eccolo L'ho messo Ah no Il sinistra Eccolo Ah eccolo Il primo quadrato A posto Sì perché mi scordo Che io posso cambiare Quello nefasto Ok Siamo dove eravamo prima Non sono impegnativo Però gustoso Perché Ci sta che un po' Strumento di arcing Eh dai Adesso c'è lo shot em up Ma dove ho Shot em up E quindi Ecco tu Questi qua Collegamento con il pattern 36 Dati più facili Dati più grandi Dai E Ma te ne ci sei Sì Dario Eccolo Questo Lo guardo G sotto E da me Compaiono sotto Dei potenziali Sì sì Anche a me Questo per Sono disconnesso No 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 Spero di no Speriamo di no Ah ok Io ci sono Un cute Però sicuramente C'è stata un'interferenza Perché Io prima T'ho chiamato Vuole forse Stare a leggere Non lo so No no Ma anche da me C'è stato un attimo Di Ok Adesso però Se si disconnete Cazzo Voglio ripartire Da qui Vediamo che i minigiochi Ci propinano Ah quello lì Delle chiavi di neti C'ho un più Con un meno Sotto Dimmi cosa c'è Una scala Senza Noi c'ho un più Con un meno Sotto C'ho devo fa' E c'ho diversa 6-8-6 Non è la chiave giusta Un più Con un meno Sotto E come no Eh non lo so Eh più di 4-6-8-6 Più di questo Mi dice che non è giusto Se no non è che 4-6-4-6 No neanche Ne provo tutte Ma dopo 3-2 Non ne so Come 3-8-8 No No Non è 4-6-8-6 C'è io C'ho più C'è i cionove simboli Quello con il più sopra Il meno sotto E 4-6-8-6 Sono equidistanza Nel senso C'ho le solite scale C'ho altre cazzate Va bene Va bene Lo riproviamo dopo Faccio il minigame Cosa devo riparare? Sì ma non è Non avevo Cosa devo riparare? Dai veloce Che dopo tocca a fare il minigame Transmit packets Transmit packets Sì 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 Transmit packets Transmit packets Mi sa che si è disconnesso Transmit packets Mi senti? Forse no Sì sì Di avere connessione Pronto Eh sì sì Ti sento Solo che sta la gada bestia Mi sa Come simboli cosa vedi? Uno smile Un tizio che ride Con le guance gonfie Due Tipo Te c'è tutte faccette Immagino Pronto Ti c'è entro Ma Sotto in ritardo Eh lo so Te c'è tutte faccette Immagino Io c'ho la fan Una faccia Che 3838 3838 No Vabbè Se è disconnesso Ma non era la chiave giusta Comunque Chissà come funziona Questo Magari riesce No Provedi Si muove Porca miseria Come facciamo C'è un po' di lag Devo attendere che Che succede Ah possiamo fare pausa Facciamo pausa Ah ok No Per vedere Ok Sospendiamo il gioco Sì perché mi sa che ognuno di noi può mettere pausa Infatti bella anche sta funzione Adesso aspetto che torna in parti Oh Aspetta gli scrivo Ah ok sta tornando online Ma quindi strano che Ah ok Perfetto Siamo ancora Siamo ancora in game Stranamente Ripartiamo Hai visto che c'è la pausa L'hai fatta te pausa Sì sì l'ho fatta io E come è possibile che te se ti sei disconnesso il gioco ha retto Vabbè Vado eh io occhio ci siamo Allora Riparare Router blocker false Poi la chiave c'ho sto smile di merda Ah no non è vero non è vero C'ho un meno con sotto il più Meno sopra più sotto 4 6 8 6 4 6 8 Eccolo cattolo avevo visto Non è la chiave giusta Ah allora è questo 4 6 4 6 Non è giusta Eh come Io non ho altri simboli Con il meno sopra il più sotto Forse c'è una Non lo so Forse C'è una logica particolare Cosa riparo Bypass transmission Io c'ho una scala con dei Con all'estremità 4 pallini Allora 9 9 3 3 Questa è giusta Hai capito Ho fatto la logica C'è una logica strana No no Il simbolo è qui Ok ping Ping pronto al tasto Io adesso lo avvio E ti dico via Lo avvio Via Perfetto Vedi te lo devo dir in anticipo Perché ho visto che arriva un polarità Proxy 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 Eh no questa è tosta Avemo salvato la partita anche con la connessione Incredibile Vediamo che minigioco tocca fa Doppio minigioco Vabbè questo è facile 3.8 3.8 sarà circa qui E c'ho Il meno sopra Il più sotto Molto vicini Molto attaccati Meno sopra Però 3.8 3.8 3.8 Non è quella giusta C'è una logica strana Magari Non so No c'è Io c'ho I simboli Favo il ping Favo il ping Ti dico io Lo faccio partire Vai Ho premuto Te lo rifaccio ping Ti stai schiantando No aspetta perché Devo cambiare Devo cambiare gioco Ecco Fammi il ping Spostati esatto Lo faccio partire Vai Perfetto Ok Ora facciamo i chiavi di rete Allora Io Facciamo quello che bisogna spostare Perché quella chiavi di rete È mai spacciato Allora Io c'ho il 4 Il 4 a sinistra Sì Il 2 verde a destra Quindi A destra Dev'andrà sotto di 2 Fatto Ok Vuoi fammi riparare Che se no moriamo Cosa devo riparare Scal network Scal network force E Server Server Tintanto va nel server Io riparo Poi augmente signal Che è l'ultimo se non sbaglio Esatto Eccolo Intracciatori Sì Uno Uno nella centrale Quindi si sta lì Stai safe Però adesso C'è un ostacolo Vai giù di 2 Vai giù di 2 Ancora Perfetto Lì non ti pia nessuno Minigame però Allo stesso tempo Ma no aspetta Ma no aspetta C'è un Rintracciatore Eh no Ma te spostati solo di uno Non andà in boscate Occhio Occhio Che te frega L'importante è la vita Giù 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 Va via Ok Quale devo allineare C'è un Allora Con la destra su di uno Con la destra su di uno Occhio che c'è Un tracciatore Vai giù Vai giù E restaci Restaci Allora Con la destra Con la destra su di uno Comunque Beh l'ho già messo su Ecco No Ancora su di un altro Tu hai detto il 2 no? No C'è La colonna a destra su di uno No Ma ti dividimi il numero Io non faccio Ah 4 6 Ah 4 6 Come vuol dire 4 6? Eh 4 4.6 No Io stavo a fare altro gioco Quello lì De la Vabbè Allora Dai Allora Aspetta Sì sì Allora Vediamo un po' Quelli lì da raccogliere Sì Sono utili Allora No no Vabbè Ma dai non stavo a raccogliere niente Però No no Stavo a dire in generale C'è un tracciatore dietro Non ti muove Vai Muoviti adesso Quello a destra Aspetta Torna in dietro Vai nella centrale Ok Torna in quella lane Perfetto Rimani Quello a destra Sotto di due No Sì ma che numero Da uno Quello a sinistra è tre Quello sotto è ok Sotto di uno Sotto di un altro Eh no No ho sbagliato Ok È perché c'è quello fake Te mi dividi Dividi un numero di qua E un numero di là E poi faccio io Allora c 5.3 Perfetto Ah ok Basta che ti dica i numeri Va bene Ok Qua è 5.6 Dove è? Sarà qui circa Perfetto Fammi riparà Subito Che siamo una vita sola Emulet signal E transmit packets Dove di mandare? Eh non lo vedo Aspetta due secondi Database Vabbè poi manco era apparso Transmit packets Da riparare Sì sì lo sto Ah cazzo era lì Sì perché sballa È un po' scomodo Questo per riparare Tre passo quello dove devi andare No Altro mini game C'è un tracciatore Nella lane centrale Che sta arrivando Quindi adesso fa Vai D2 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 Ok Eh o fai così O D2 Allora dimmi Tracciatore Faccina che ride Dimmi l'accredito Sei uno T Ah Portavacca C'è una cosa da fare prima 4.6 4.6 Dimmi da riparare Che morimo Scan network E augmente Scan network force E augmente signal Poi c'è 14k 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 Ah cazzo Non l'ho fatto in tempo A riparare quello Davvero Davvero Canta roba Allora i tracciatori Hanno visto che sulla realtà Chissassi la versione pc E C'ho scala C'ho scala 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 come Una scala semplicissima Non c'ha nessuna banda Particolare 4.6 8.6 Eh ta beccato il tracciatore Te lo volevo di Però tanto Dimi l'accredito Dimi l'accredito 55z Eh troppo tardi Vero si 4.6 8.6 E arriva Arriva il tracciatore Eh Vabbè Forco Dittanto c'è sempre Una gabola In più eh Arriva il tracciatore Lane centrale Allora Dai c'ho un più e un meno Un più sopra E un meno sopra E questo non ho capito Come funziona 9.933 Sì è giusto Ecco Ma allora qual è la logica Se prima 76 L Ah non lo so 76 L Ok Cioè Vai Lei in centrale Lei in centrale Ok Torna giù Torna giù O vai su Vabbè Quando dico torna giù Perché può essere 2 2 2 Sì 14k Vai su Vai su Vai su Vai su Io lo so che Il su Sa da te Sinistra In pratica Sì Sì Vabbè Giù Giù Minigame Ah il ping Dai Allora eh Vai Perfetto Oh infatto Basta Quanti ce ne fa fa No siamo a un Un altro minigame Forse manca No Invece no Madonna Questa secondo me Tutta di fila Non c'è Non so se ci sono Altre Tipo Una Che siamo Fisicamente Lì Tutta Tipo Una Boss Fight Dimmi che C'è Sei Sì Madonna Donna Questa è la 300 Perché Entrambi più grandi Perfetto Ma non so se è in vantaggio Sì Sono giganti Io sto sbonettando Su pc sarà col mouse Sto pezzo Ah ma quello per farti da meno dati Perché è un tipo un versus Sarebbe no Quindi ti devo Ti potevo da addirittura meno dati C'è proprio Cioè allenta Allenta la missione Perfetto No E dato c'è livello 2 direte No Io sono nel mondo 3D Solito Ok C'è il sole Con i fraggatori Oddio ti vedo Ti vedo Ti vedo Perfetto Oddio Allora Qui ci sono due fraggatori Davanti a me E dove ci Ah ho capito Vabbè Dove cosa Fanno avanti e indietro Allora ok No 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 Ah ho capito No giusto per vederli cosa fanno Me lo mangiano tutto No Arrivano fino Fino Aspetta No Questi due non me li hanno mangiati Perfetto Ah no C'è quello destra Alla mia destra Che si ferma Ah no Si fermano entrambi Aspetta Guarda Lo insegui tu Lo insegui tu Vai Ah vai Vanti indietro Si Si Comunque arrivano Oh Ma scusi Non ho capito Ma una volta ci arriva Una volta no Adesso Adesso capito Va di là Va di là Va di là Non muoio No no Basta che torni indietro Allora Tanto lì sei safe Ora dritto E poi prima della barriera sinistra Vai 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 Troppo tardi E ci provo Per capire Ah ho capito Ho capito Così sei in mezzo Proprio Si ti dico Ok vai Dritto Sinistra Esatto A posto Allora vediamo un po' qua Ok qui Dove devo andare Sinistra Immagino Si Ti devi andare Si io vedo Devi andare sinistra Allora Guardi Devi andare Guardi E fate capire Vai 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 Oh boh è andata grassa Grassissima Oh No Per pochissimo Ah vabbè ci fa di partire da qui Comunque così Vabbè Io lo fo Lo fo a priori Perché voglio Voglio vedere cosa mangiano Ok vai Ma questo secondo me è più semplice del pro Che culo grande A posto Adesso c'è C'è una freccetta strana Che è un teleport Credo Si C'è un teleport Verso l'alto Per me Beh portami cibo Andiamo Ci vado Ah ok Ok Ora Poi devo fare Ah Ci sono dei cosi verdi Aspetta devo cambiare io Io non ti vedo sinceramente Io sono un piano sopraelevato adesso Eh come fa cambia piano Aspetta Io non posso cambiare piano Ora in teoria Vabbè sarai lì Uguale Cioè tipo mi vedi No no Cioè ti vedo ma io sono sopra Sono sopra quello che stai facendo te Io sono sopraelevato E come faccio a cambia piano Nessuno mi ha detto C'è provato a togli Tu sicuramente sei sopra Sei sicuramente sopra Ah prova a buttarti di qui Ah no Mi devo buttare Ah ok No mi devo buttare T'ho fatto la piattaforma Malato Alato T'ho fatto No Mi aspetto che non la vedo Dove è che è Dove devi andare T'ho fatta dove devi andare Se non la vedi Vuoi di che non devi andare lì C'è una barriera La tua idea Ah ok la vedo La vedo Però più avanti Più avanti Se prosegui Verso Verso lì Esatto Lascia così Eccoti Ah beh ma qua non c'è nessuno Ok vai 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 Perché stanno Ok si di nuovo Sopra elevato Adesso Perché alcuni Sono scomparsi E ah beh Quindi ti fai un salto enorme Sì Ah c'è un inforgatore Qua ci sono un po' di frag Allora Ave te non puoi cadere qui dove ti ho fatto la piattaforma carina Non riesco a vedere No Cioè anche perché se non A vedere A vedere sotto Se li fai proprio a filo Non ci riesco a vedere No adè mi fa una nuova funzione Eh tipo te la vedi vedi Aspetta Ecco adesso si Adesso si Più c'entra Più verso il centro Più verso il centro E poi arriva fino Esatto Esatto Io da Ok da Già la fila che c'è qui indietro No è troppo indietro Conviene che Tipo No più avanti Te puoi cadere fino a qua giù Poi me li mani No 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 Aspetta Fa una fila Fa la fila più in basso Fa una sola fila Ok no No l'altro verso L'altro verso Fa una fila nell'altro verso Così Ok questo no Non va bene perché non la vedo Va più avanti Non la vedo Più avanti Eh c'è il faggatore Ok esatto La vedo ma lì non ci riesco a cadere La fila più avanti No a questo no Ecco Dalla fila che hai fatto adesso Da lì devi partire a farli Da qui Devi partire a farli Verso avanti Così Da lì esatto Tipo esattamente Così poi vedi che me li stanno a magna in continuazione Eh perché ce ne sono tre che fanno avanti e indietro Allora Oh dai dai Adesso ho un momentum Io continuo a fare sto giro Ti continuo a fare Ok Aspetta eh Dopo che Ti devi farne Ti da lì Da dove parti Devi arrivare fino a A un in più Fino a lì No troppo Vabbè Per farmi essere Vabbè ma dopo te li fa Dopo te li fa Ti atterra Dopo vediamo Vabbè Vabbè io atterra Poi vediamo Ti continuo a farli Adesso Orca miseria No Vendetta privata Dice che ti ho ammazzato Vabbè ti sei ancora in alto Vai Sì Allora No Ho sbagliato Ah però vedi Arco 2 Vai 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 No allora No aspetta No niente Allora devo Parti qui Dopo Sarei curioso Di capire Come fai te A saltare da laggiù Perché sembra Fai un bel saltone Pare Perché Allora Cazzo è difficile Perché sono tutti e tre Sfalsati Maledetti Ma ti ti per un po' Eterra qui No perché ti rimangono Steso Cioè sì Però In senso Devo capire Ok Ricreali Orca miseria Ah ti avevo fatto Fuggisù Vabbè Allora Vai Ok Porca miseria Ah ma li fa Sì ma cazzo Eh me l'ha maniati lui Me l'ha maniati lui Allora Allora io Te li mando Sono davanti a me Oddio Madota Poi una Una via di fuga Te la voglio Crea Tipo Questi li lascio Così quei quattro Tanto non servono No No invece Per i momi Rimangano tanto Quelli lì Rimangono lì Ok Allora Porca miseria Vai Allora No Vi c'è vicino Ma non lì Più a destra Più a destra Più a destra Anche la fila Più a Più a Più a Qui Esatto Qua Esatto Spera Spera Così Li sto creando Mentre me li mangiano Ok Vai Ok Aspetta Ah ok Perché non c'era Dove siamo Passo successivo Allora Siamo Non siamo Altri Oddio Te sei Allora Sei in una mappatura Sei in delle porte No Sì All'interno di ciascuna porta Scansione alle chiavi In base alla tempistica Impostata dal tuo partner Ok Porto dalla prima porta 127 No Io non c'ho Io c'ho rosa Giallo Blu Rosa Nero E più Aspetta All'interno di ciascuna porta Io c'ho le mie C'ho le mie Delle porte Ehi c'ho Du Vai Allora Aspetta Aspetta Perché devo Quell'ordine Per me Da me c'è scritto All'interno di ciascuna porta Quindi lo sta spiegando a me Scansione alle chiavi In base alla tempistica Del tuo partner In che si Tipo Rosa Giallo Vedi qualcosa che cambia Io c'ho Vai alla 1 Tipo la 1 E quella Allora te guardando Quella da dove sei venuto Dov'è quella che sei venuto Fammela vedere Eh cioè In senso Vabbè ti sei al centro Ce n'è una gigante Ce n'è una gigante Esatto Quella gigante Chiusa Eccola La prima La sinistra No No scusa Destra scusa Scusa La prima destra Ok Allora destra Quella lì Quella lì Blu verde blu Ah Cioè da me c'è Scansiona tutte queste chiavi Scansiona tutti Eh vaci sopra Tipo Ah ok Blu Verde Blu Ah ti devo dare il tempistico Verde Adesso Ah Ti devo dare il tempistico io Sì 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 vai Ho capito Ecco cosa dice Blu verde blu Ti dico quando fare il blu Aspetta Sì Ora Ora Verde Ora Blu Ok Ah ma qui due volte lo dobbiamo fare Adesso in quella Guarda sempre quella big Sì sì Voltati di 180 gradi Quindi guardando Con quella big alle spalle Diciamo Sì Quella Dove stavi due porte centrali Quella sulla destra Ok Esattamente Allora Giallo blu rosa giallo 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 blu Rosa Giallo blu rosa giallo Ok Io entro Dimmi solo via 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 Ora 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 No aveva detto giallo blu rosa Ah un altro giallo Vero 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 Vabbè rifammo Vabbè Ora 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 Ok Perfetto T'ho sbloccato quella big Oh E si va Bravo Bello questo dei colori Sì qui Guarda come sei Io ti vedo Sei su sta sedia Io invece sono in questo mega computer Ok Allora C'è pure la chiave da trovare Cioè quindi sei tu il platformer praticamente Fa vedere come me li mangiano Oh guarda Era perfetto Questo perché è un muro È un muro che Ok 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 allora vai Eh Dritto mie No 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 Troppo tardi Allora Aspetta eh Ok Vai sinistra Esatto Allora Vediamo un po' Eh qua c'è un po' di robetta Eh ci sono due chiave Guarda me Ci sono due chiavi da prendere Una qui Dove ti sto creando Fiamo questa Dopo l'altra E' una di là Ho capito Va bene Famili creare per capire Vabbè Qua ci vuole Qua tocca creare Qua tocca che Allora davanti a me Più avanti Io posso anche passare dietro qui E fa il giro largo Però quelle non le mangiano Sì le hanno mangiate Tu è perché non vedi Vedi dove ho creato le piattaforme Sì sì Puoi poi girare lì Sicuro se ce l'hanno messo Vuoi di che bisogna sfruttarti i muri In qualche modo Allora intanto Intanto fammi dritto a destra Ok E questa zona qui E' zona safe Questi quattro quadrati qua So safe per sempre Per sempre Allora ok Perché Allora A destra Alla mia destra Subito c'è un muro E c'è il frag Quindi qua non devo passare qui Ma se no è troppo facile Quindi sarà che devi far così Devo far il giro di sotto Ok adesso No Aspetta ho visto ho visto Dimmi te parto Ti dico quando partire No 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 ancora no Eh forse adesso Madonna No adesso Ormai quello perché mi franco Se torno indietro Ok No ho sbagliato No niente vai Mi è comparsa una serranda Mi è comparsa Qua sotto Qua è Niente preoccupare Dopo forse Va bene dopo Sono stato io Sono stato io Vai allora Adesso Avanti destra Ah ti ha preso un buco Dai vai prendi Vabbè troppo tardi Comunque si era Andava bene Sì si andava bene Così solo che Ci ha mangiato il buco L'ha preso di sguincio Allora Vabbè adesso Ok abbiamo una chiave su due Adesso però tocca fare il contrario Oppure te da qui Puoi direttamente Andar qui Seguendo il muro Cioè basta che Cioè li segui Ok Allora lì Secondo me è fatta apposta Che li pu... Vedi Vai 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 Perfetto Ok e rivai E rivado Ok Una chiave ce l'abbiamo Un'altra chiave Vediamo un po' qua C'è un po' di frag Che fanno Ambe ruotano Ruotano attorno ai cuoi Sicuro tocca che la fa così No ho capito Poi una chiave ce l'ha data Sì se no bestemmiamo Allora aspetta Sarà da far così Dritto 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 per dritto Ricrea lì Ricrea lì Sì sì si aspetta Vai 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 Che ti stanno a fare la fuga Ti stanno a fare la fuga Via 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 Poi sto presa No c'è un muro davanti a me Che non posso oltrepassare Va a destra Ah te l'ho fatto di qua Eh vabbè Poi ti parte dalla chiave Allora La donna vedi mai No c'è il muro Perché c'è una parete in più Che prima non c'era Allora aspetta No ma il muro è solo qua a sinistra Conviene passare a destra Allora aspetta Ti dico quando Qua Qua C'è No conviene passare di là Qua Ti dici Ecco sì Allora aspetta Da dove sono io Sì Aspetta Ok vai No 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 Conviene no Aspetta no Passiamo alla sinistra Comunque del quadrato Passiamo alla sinistra Del quadrato Tipo qui Qui fino a lì Fino a lì dove hai segnato C'era Qui Così tipo Sì esatto esatto Facciamo così Ok aspetta Vabbè ce li mangiano Io ti creo questo Per primo Vai avanti vai 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 Orca vacca c'è il muro qui Forco zio Ok Ricreali Un attimo ci sto arrivando Vai 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 Safe safe Yeah Ok Perché muovo ogni click Capito Ah posso fare anche col digital Adesso abbiamo tutte e due le chiavi E vai Qui c'è una porta che si è aperta C'è il C'è il teleport sopra Ah ho capito cosa devo fare Guarda Si apre Tu ti devi buttare E dura un tot Però io vedo quando ti butti Buttati Aspetta eh Io c'ho delle barre che fanno avanti e indietro Dimmi Le barre che fanno avanti e indietro Ti uccidono no Io ci ho buttato le Oh forse L'ho aperto al pom- Si da me Da me Ti sei schiantato Ma Ce l'ha fatto passare Cioè nel senso Io ho aperto No vabbè Si è entrato giusto giusto Oh Oh bello Questo è il mio gioco preferito Questo è bello Allora Praticamente Quella A destra E quella a sinistra Fondamentalmente Agli estremi Qui tipo Se la porta gigante fosse 12 In un orologio Sarebbero La 1 e il 9 Quindi prima al 9 No quelle 6 sarebbe Ecco 9 No Quello è tipo 11 Insomma Agli estremi quadranti Eh esatto Sì sì Quella lì esatto Diventa in quella Quindi per forza fare queste porte qui O Io c'ho Io c'ho quella C'ho uno Quella lì Che ti ho indicato E la 1 E poi la 2 E per forza questa Allora questa qui è Rosa, blu, blu Madonna Allora aspetta eh Sono 6 tasti Rosa, blu, blu Rosa, blu, rosa Rosa, blu, blu Rosa, eh Rosa, blu, blu Rosa, blu, rosa Perfetto Dai Esatto Vai 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 Perfetto Ok Allora c'è un'altra porta Che è questa Sì esatto Sono gli estremi Sì non è proprio Quanto è roba Allora Blu Blu, verde, giallo Dopo guardatela in live Questo gioco Cos'è che è? Blu, verde, giallo Blu, verde, giallo Sì Dimmi se è corretto È blu, verde, giallo Verde, giallo, rosa No, no Rosa, giallo, verde È una mezzaluna di qua No No È blu, blu, verde, giallo Rosa, verde, giallo Ah la mezzaluna da così Rosa, verde, giallo È blu, rosa Verde, rosa Verde, rosa Quindi Blu, verde, giallo Rosa, verde, giallo Verde, rosa Verde, rosa Sì Vabbè sono il primo è blu Poi infatti di pensare Blu Poi verde, giallo, rosa Verde, giallo, verde, rosa Eh Ah vabbè sì Perché ogni tasa è un tasto della playstation E rosa è triangolo Per dire Quindi blu, verde, giallo Da me è tondo x quadrato Poi devo fare Triangolo x quadrato E poi x triangolo Che sarebbe verde, rosa Va bene dai Ho capito tutto Vabbè io vado Vai Ora 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 Dice che non sei riuscito Poi ho fatto rosa E tanto è blu, verde, giallo Rosa, verde, giallo No? Eh sì Ah ok Forse ho fatto il tempismo errato Evidentemente Magari è Ok Ho sbagliato Ho sbagliato il tempismo Però il tasto So sicuro che fosse corretto Vai 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 Sì sì Blu, verde, giallo Rosa Verde, giallo Verde, rosa Ok Ora 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 Perfetto Ma questa è la faccia Ma l'importante è sapere Quali devi fare Cioè non è così Ho fatto sblocca Che è quadrato Ma dato giallo Vabbè perché quadrato Vedi adesso io sto Cliccando i colori Vabbè e niente dai Guarda questo mondo qua Infatti con le porte Toccherà vederlo Coggiocavo dopo questo We were No sentate una porta Vabbè non so i colori Quindi buona E niente Non so E vabbè tutta la porta è già aperta Se non ci pedevi entra Vabbè c'è A meno che l'ho richiusa No 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 è aperto È aperto No è chiusa la porta A me dice che Ah devo fare io sblocca Aspetta Ah ok A posto Non me di così Eh Pensate che va di farli vero Allora eccoci Celle di potenza Cosa che fa Server di cypher Sì eccomi Oddio Per disabilitare Premix per disabilitare Allora c'è C'ho Io c'ho Quattro celle di potenza E posso fa E non so cosa devo fare E disabilitare tutte Disabilitare tutto Dai dai stacca tutto Ancora la 2 E la 1 Cancella tutto A posto Si consiglia di fare attenzione Cancellazione software E dati sul server Ciò richiede un'azione Simultanea da parte del partner Ah vero Dobbiamo fare 3 2 1 Quadrato Facciamo come al solito 3 2 1 Click No al solito nostro Ok Quindi 3 3 2 1 Click Perfect Vai così Ah questa è solo di hacking La 4 Bellissima Tutto flying L'ubia stima Sbrega Nicole Qua è il covid Perfetto Si torna Eh siamo in Sud America No le polizie istituzionali A Buenos Aires Argentina Let's go Questa è zona urbana Poi va bella questa dell'hacking A lei non ci vuole del giro Vediamo Ehm 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 Ah io chiaro Va bene Ehm A janitor Va bene Quindi anche travestimenti Attenzione Dai che bello cazzo Devi dire C'è tutto il mondo 3D figo Da esplorare Da esplorare Eh sì Di vedere le camere De merda Eh ma io su We are here Era dentro una Era comunque in 3D Ma ero dentro una stanza Pena di scartoffe Però è bello Ah entriamo Forza accesso Flusso di rete Ok Ok Vediamo se c'è qualcosa di interagibile Comunque sarebbe stato bello Se ci fosse qualcosa di veramente interagibile Comunque ho già visto gli orari dei bidelli eh Solo che voglio esplorare una cosa Ok Qua ci sono due cose da cliccare Bestemmia di ventilazione Non ci interessa Ma io chi sono De Come Com'è la mia identità Bruno Rosco Sembra una bestemmia Di quelle Santiago Solis Pedro Brise Paolina Guaio Sarò O Magdalena Ecco Ecco Elenco dei bidelli Ce n'è un po' E io chi sono C'è Lidia Lidia Gabriella Ah ok Ho fatto mostra solo oggi Quindi ce ne sono 4 Bruno Rosco Fernando Mata Mata Eccolo Eccolo Fernando Mata E Lidia Gabriella E Paolina Guaio Io chi sono Chiunque mi pare A me Basta che sia una donna In caso Credo C'è Magdalena Muniz No non c'è oggi Signora La signora Muniz La signora Gabriella Vai Eh Vabbè Trasferisco I D Ah ok Bravo Perché se no Sì Accetta E sono lei Prosto Allora Vediamo un po' Poi Punti di accesso Vediamo un po' E sono Lidia Gabriella Aspetta Vado qua Scanner Scanner Io ti ho scannerizzato Una roba Non so cosa sia Richiedi l'assistenza Del partner Ok Passo Scanner Ah Il nostro gioco Preferito Vai su Comunque Rivedendo la live Io forse ho capito Cos'è che non c'ha Cioè ti Puoi dare anche Un colpo inverso Per allentare Capito Cosa intendo Tipo vedi Adesso io ho recuperato Sì 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 Vedi quanto controllo Vai vai Su 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 Vedi oggi Sta fuori Ti capito Ti invece mi sa che Rivedendo Orco 2 Ma vedi Stavolta dovevo io Fare il colpo di recupero No no ma sì Ma nel senso che Comunque c'è Un po' di nerd Arrivando su io Allora Aspetta Stiamo un po' qui Vai giù 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 Vai vai Seguiamolo Vai su Perfetto Sì sì No perché stavo rivedendo Ah ok No dovevo aspettare Porca miseria Porca miseria Sbattiva Porca miseria Devo aspettare Io devo aspettare Devi te andare su Che mi va verso il basso di base Sì lo so Vedi che c'è la forza Vai su Devi salì in quel momento Vai 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 Perfetto Ah quindi ho niente Io niente IP dello scanner d'ingresso Lo vuoi sapere? Cioè ti interessa? Sì sì 05 Ah vai Dimmi te quando sei pronto 052 Sì 703 Sì 897 Sì 628 Io mi connetto Sapirà qualcosa In verità Già potevo andare Ma c'è una cosa Sospetta Ah ci vedo Ah Si prende Ah ok Dentro Ecco Provo a uccidermi Senti Ah perché dove Vedi Ops Perché non abbiamo visto L'orario Bene L'IDA è alle 7 Alle 13 Cavolo Dovevamo prendere Ah no Però nessuno Andava bene C'è nel senso Dovevamo prendere Anche un maschio Mi puoi cambiare ID Chi c'è Dalle Dalle 13 Cavolo Ma sono Sono le 13 25 Nessuno E Lavora Quest'ora Tocca Ma tocca aspettare Le 15 Ma non potremmo aspettare Le 15 In game Perché comunque Il tempo Va avanti Database Delle evidenze No Allora Robot delle pulizie Ma tocca Quanta roba Semi di sicurezza Carta geografica Non c'è un modo Per alterare L'orario Di questo posto Questo non ci interessa Ma te con l'IP Cosa hai fatto Fondamentalmente Te l'ho giudato E basta No con l'IP Perché o facevamo Presto E prendevamo Oggi Mercoledì Vero Mercoledì 4 agosto Del gioco Ah Due ore Prima Dell'orario Di lavoro Quindi va bene Anche No scusa Due ore Prima Io sono Lidia No Lidia Dove ha già Smesso Se mi dai Paolina Se mi dai Paolina Guai Posso entrare Adesso Vedo vedere La soluzione giusta è Paolina Guaio Proprio Cento per cento No perché è insoluto Questo microonde Dai ci sono pochi modelli poligonali Perché hanno sbagliato questo Va bene Adesso vediamo dopo Allora Andiamo un po' Damme Paolina Guaio Damme Serve Paolina? Sì perché può entrare due ore prima E lei dovrebbe Entrare alle 15 Visto che sono le 13 Il robot Mi fa entrare La scan Ma 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 Paolina Guaio Ecco Ti sferisci Ok Ora sono lei Mi sa Vero Perfetto Ora torna dove eri prima Che mi vedi Vediamo cosa succede Inizio la scansione Inizio la scansione E il BB A posto Aspetta Ti faccio un A posto Cioè in verità Io te le posso fare tutte C'era un trofeo Forse Bravi Di posso fare questa Adesso Che succede? Eh ci sei provato Per andare avanti? Sì E io che sto cazzeggiando Ah Ok A posto Ce l'abbiamo qua Pulizie dei robot Allora aspetta Allora aspetta E arrivo Oh Ecco sei anche tu nel mondo 3D Eeeh In attesa del trasferimento Della mappa Della mappa Mi dice Dice in attesa Di trasferimento Della mappa Della mappa Allora vediamo Vediamo 9 Allora c'è Robo delle pulizie 2 Guarda io vedo dei tizi qui Dall'altra parte Di questo magazzino Vedo dei passi Vedi sistemi laser Sblocca Codice Devo mettere Qua ci vuole un codice Da 4 cifre Adesso io forse ti devo aiutare Ma io con il robottino Poi sono andato Il tuo padre Ah rompere la gamba Di un Ah beh perché Sono andato sbattendo Sbattendo contro un tizio Con il robot Ma di rompere la gamba Di un operatore Non è Nelle mansioni Di un robot Io qua c'ho un botto di roba Direzione del flusso Aggiungi goccia Allora Carta geografica Devo dirti qua Trasferisco l'automappa Al partner Ecco qui Perfetto Ho trovato una mappa Allora dobbiamo andare I condotti di ventilazione O Disabilita il laser E la ventola che blocca I condotti di ventilazione Ok Eh i controlli del laser Sono oltre qui Vai te col robottino Dentro questa Solo tu puoi muoverti Nei cunicoli Allora fammi vedere Sì Ah conviene che Pior robot Ah beh mancava Questa è molto Ti quale sei Sei questo Che sta Andando a manetta Sì Vieni qui Passa qua Do sei Parca magosca Ecco Ecco Vai vai Io qua Dopo Non posso fare nulla Credo Ah Te non puoi muovare Te puoi muovarti Solo nelle zone gialle Allora Sistemi laser Il codice di oggi Eh dimmi 1699 Come? 1 1699 Sì in verità Ho capito E Ok Eccomi Eccomi Oh my dog Ci sono i laser qui? Aspetta Vediamo un po' Ah ero sbagliato Ok Sei nel laser allora Allora Ecco Ti vedo Allora ti dico Fammi un po' vedere Questo è il mio preferito Nei film Che devi Magari io C'è una combinazione Giusta Allora Vai dritto per dritto Di tre Di tre Da dove sono? Di dove sei Di tre 1 2 3 Vai Vai sinistra Fino in fondo Adesso scusa Hai detto dove? Sinistra Fino in fondo Ok Torna dritta Dritta di quattro 1 2 3 4 Basta Ne hai detto quattro? Sì Cioè Perché quattro Compreso il tuo Ah ok Vabbè Vabbè Non ero sbagliato E' uguale La formazione Allora sì sì E' uguale Avanti di tre Fino in fondo Ci di tre scacchi Insomma 1 2 3 Basta Ora Prendere fino in fondo Dall'altra parte Dall'altra estremità Ok Adesso Di tre quadrati avanti Di tre 1 2 Eh questo Per scomodo Vedi come Vabbè Quella striscia E' tutta vuota Quella striscia davanti a te Quindi fermati lì Ecco lì Ok No fermi Allora vai lì Vai al centro Vai al centro Cioè Spostati dritto Esatto Verso l'altra estremità Di 1 2 Ancora Fino Di un altro Ancora Ok Giriati Aspetta un attimo Avanza Fini in fondo Avanza fini in fondo Ma che tutto sei Ok Aspetta Adesso dove sei? Eh ti sto hackerando una roba Ti sto mandando forse Che chiedi l'assistenza Hai visto Il grimaldello Virtuale Sarebbe A me non mi è arrivato niente Qua Ah forse devo Ah ok Te devo schiacciare io Carichiamato il grimaldello Fa un po' vedere Ah quello Figo Questo è il nostro preferito Allora Allora Questo Io posso Chi lo deve modificare adesso Questo Io Allora Te Io posso andare Io posso avanzare Ah sei te Vabbè vai giù Vediamo se me lo puoi incastrare così Vai incastrare No vero Questo dico Aspetta Ah no vedi non si muove più Ah Adè No No aspetta comunque aspetta Sì esatto Torna indietro Incastriamo quell'altro Come ben sappiamo Guarda Esatto Intanto Vai Togli quello No aspetta Esatto ok Ce l'abbiamo uno tolto E poi abbiamo Levo questo Vai 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 Facciamo così Tra l'altro lo tengo io Ok È bellissimo Questi più belli Allora vai Due core Ah che si muovono contemporaneamente Semplicemente Ah e io devo fare E io muovo contemporaneamente questi Vabbè basta Vabbè basta in bosca 1 No questo perché ce l'hanno messo Non ci si può incastrare Vedi questo qua Chiaro Serratura Blocco dell'acre No niente No niente vabbè dai facciamo Vai cambia Ah Allora aspetta vai avanti Però vedi che Allora no aspetta Torna Io posso smicciare tra i due No no Proprio perché questo ce lo fanno Mette qui Vai Vedi non ce lo fa incastrà Qui c'è qualcosa D'attimo da ragionare Che adesso lì per lì Non ci sto Non ci sto arrivando Tanto se te li muovi Tanto noi vediamo Le stesse cose No Vedi che se noi lo muoviamo Lo muoviamo Contemporaneamente Vedi Se tu metti il 2 al centro E poi mi fai passare Vai lascia Cosa Io Lasciali andare No non li posso lasciare andare Li comando proprio manualmente Cioè non li tengo Io così non sto premendo niente Non li posso Vai un po' più in di Forse è millimetrico Aspetta Mettili centrale Tipo Vai verso destra Un po' Non è sufficiente Vero no Vedi No no Aspetta Aspetta un attimo Però secondo me La chiave è questo qui Vedi C'ho un blocco Della gente Però vedi che Ah ho capito Bellino Ho capito Vai Ah te puoi fare Te puoi fare qualcosa Spostali tutti a destra Ok No tutti a destra No a sinistra Ah scusa Vedi adesso te l'ha sfasati in teoria Vai lascia Vedi che partono in un modo Io ho capito Questo ti serve per sfasarli Capito cosa intendo per sfasarli Sì sì ho capito Però Ok Vai sfasalo Butta tutto a destra Vedi Oh Ah ok No Quindi No adesso le hai ripristinati Facendo così Però ho capito Vai E questo sta fermo Torna indietro Perfetto Ah ok Perché non ci pensavo che Pensavo che fossero collegati anche Che non si potessero sfasar Vai su E andiamo al primo enigma Vai vai su So io su So io la tipa Cioè va su con Le macchinine L'enigma Ma io faccio un enigma Com'è che No si è bloccato allora Può essere E poi è una scamata dell'enigma Eh no io sono nei lucchetti No Io so Sto muovendo ancora i due Se pensa Come è possibile A me mi ha detto che l'abbiamo sbloccato Aspetta possiamo fare Aspetta missione No Non so se c'è Riavvia l'enigma Non lo so Io sono ancora bloccato nell'enigma Cioè io ho visto i due che stavano verso l'alto Poi si sono fermati E io Li ferma Se è rimasta la schermata Non puoi far tondo qualcosa Eh sì Riprendi partita Io sono nell'enigma Ah ok Abbandonato Perfetto Ah è Abbandonato Sì Meglio così Perché S'era impallato Vabbè io ti rinviso Sì ma forse c'è stato un lagghino Va bene Va bene Va bene Dai dai No Intanto questo è facile Abbiamo già scoperto I due I due trick Adè basta che poi ci fa fare Riprendi Sennò facciamo speedrun Hai accettato Stai accettando Sì Sì Sto canicato E l'altra volta Siamo stati più rapidi Perché quella dell'hacking Ci ha tenuto molto su Ok Questi sì Sono un po' Aspetta io ti voglio Anche se non serve a niente Chat vocale Meglio attiva Metti caso Troppo al party Ok Ok Qui si va Ci fa fa Riprendi Ok Riprendi Perfetto Ho schippato Ci sei tu No Aspetta un attimo No dico In party Dico Ogni tanto Era per conferma Ok Da qui Alla fine Basta che prendi Il robottino E mi dici il codice Come prima Da qua va bene Ecco Allora Le dico il codice 3406 Ah tocca rifai laser Vabbè quello era divertente Alla fine Ok Fammi laser Ma se Chissà se è la stessa Combinazione Io un po' Me la ricordo Se è la stessa Io vado Ah Mi devi trasferir Mi devi trasferir Allora Era fino a qua Poi 1 2 3 In fondo Poi fino alla linea Safe In una colonna E poi fino a A qui E questa Sì avanza Sì avanza Fino in fondo Ecco Perfetto Perché tanto Mi ricordo Su Tomb Raider Su ste robe così Era sempre un trial In error Poi dopo Questa comunque Era facile Me la ricordo Dopo mi dai la mappa Dell'edificio E fammo questo Ok Ti ho mandato Il grimaldello Virtuale Vado Speedrun Assoluta Se uno già Sa cosa deve fare Andiamo Nel primo Che è questo Di prima Che abbiamo detto Che questo Lo incastriamo No no Ho sbagliato io Cioè ti devi Sbagliare Aspetta Vai Aspetta Vai 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 te No 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 Lo devi lasciar passare Vai No no Vai vai Fallo passare Ah giusto Dei bloccare Eh Quello non si può bloccare Perché va su E vai Ottimo Ma è diverso Questo Aspetta Vai 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 Porca vacca Eh perché Ah ok Aspetta Aspetta Giù questo Che stavo Che è posto Già fatto No St'ha sbloccato A te Sì Ok Laser D'emergenza Attiva Attiva La procedura Di stabilizzazione Ah ho capito Dove era Ah io lo posso anche Correre Me l'ho scordato Te c'hai qualcosa Di stabilizzazione Perché so già Dove devo andare Sì Aspetta Eccolo Allora dimmi Cavolo C'è un 30 secondi Come fanno Fattore di intensità 6 Allora Aspetta Fattore di intensità 6 Ok Vabbè Riparatore di sovraccarico Come? Riparatore di sovraccarico A B C D T3 T3 Può essere Ah ok Devo attivare io Oddio Ho capito Adè Ah no Ok Devo schiacciare io Quadrato Scusa Dimmi Io adesso sono Allora Tensore di velocità 85 Tensore di velocità 85 80 Ok Passo Seleziona D Sul riparatore D D D D Il tuo Seleziona D Ok No Hai abbandonato Porca No Aspetta Che mi riconnetto Alla rete Si Porca miseria Porca Dai dai Comunque Abbiamo capito Perché quando c'è Mille pannelli Non si capisce Niente Torno E Però Dopo che uno Sa già Dimmi te Quando ci sei Chi si è connesso Adesso Si Un attimo Abbiamo Un po' Solti problemi Tecnici Però Adesso andiamo Andiamo Speditissimi Siamo A un buon punto Della missione Ok Sta tornando Il partner Ok Ah beh Si è già fatto da solo Ti rinvito Quindi ci fa ripartire Dalla sta modalità Qui E Andiamo Let's fucking go Ok No Ho fatto Mi so commentato Da solo Praticamente Atenta No Atenta Appare Niente No Perché ho fatto Visto che Sto usando L'applicazione Di Twitch Oh beh Ci sono Delle emotiche Molto belle Ok Ficsato In attesa Del partner Stai Stai connettendo Vai Ok Sono Mi è apparso Adesso Yes Mission Five Let's go Skip E quadrato Riprendi Ti dico Vai Ti dico Vai Ti dico Vai Ok Devo rifare La faccenda Quindi il checkpoint È qui Che palpe Esatto Intanto Intanto Dammi la mappa Giustamente Poi dopo Sai Poi il solito Codice Poi questo Io lo uploado Lo faccio Bufferà stanotte Così domani È su YouTube Subito 9 7 8 4 Ok No Ho schiacciato Ah no Sì Laser Sempre Quello Sì No Fino a qui Non mi ricordo Qual era Questo Era il terzo Ultimo Era questo Non ti vedo Nello schermo Aspetta un attimo Sì era questo Sono andato a rischio Perfetto Sì Mi ricordo Se era il terzo Il quarto Ultimo Grimaldello Quanto è bello Quanto è bello il Grimaldello Vediamo quali minigame ci capita I nostri prefe Vabbè questo Classicone Doviamo No Vai Togli quello Vai Scori Esatto È bloccato Oh è sbagliato Ecco E vai Vai Go 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 Perfect Poi Phase 2 Classicone Devo abbassare Quello Si sfasano Vai al centro E vai Ah sono gli stessi Ad ordine inverso Questo è che non ho capito Cosa devi far Orca miseria Ah ho capito Devi Sarebbe che quello Lo devi Ogni volta Clicca su E spostarlo De un po Ho capito Si Poi adesso Mega tasto E io devo andare Al computerino Che Che ben so Non te la figo Se io c'ho tipo Una pistola Insomma C'erano anche Ehm Sto scannerizzando Attiva Ok Condotto Imposta Condotto Dell'ossigeno Su alto Fatto Cioè No scusa Ho sbagliato Del flusso Vorrei dire No no Condotto Dell'ossigeno Su alto Vabbè L'ho fatto Continua a scadere Il tempo Da me Eh Perchè Di premere qualcosa Ah Con l'ordano Scusa Ho sbagliato Io Ecco Vabbè Allora Andiamo Avanti Ehm Imposta la sovrapposizione Di stato Su critico Per favore Ok Seleziona 5 sul motore 5 sul motore Eolico Ok E te C'hai Controllo Degli urti Su pneumatico Attiva L'esplosione Su off Io non ce l'ho Pneumatico Comunque Ah Deve farlo Io Deve farlo Io Attivazione D'esplosione Su off Off Esplosione Attivatore Off Ok Invece Direzione Del flusso Verso L'alto Fatto Sovrapposizione Di stato Su base Metti basic Allora Collega Il connettore Rosso Fatto Fattore Di densità Su 4 Ossigeno Su medio No Non è il fattore Di densità Eh Hai droppato Hai droppato Ah ecco Mancava Veramente Poco Io mettevo Oh allora Però Mettevo L'ossigeno Su medio No Infatti C'è andata Di sfiga Anche perché Pensieri A casa tua Normale Non succedeva Infatti Abbiamo deciso De fare Sta roba Proprio Porco Però Vuol dire Che I prossimi Li famo D'estate Quando sei Da te Oppure Non so Ah beh Tanto Da sto gioco Ormai Finimolo Che C'è l'episodio Finale Poi ce n'è un'altra E ancora Dopo Ma dovremmo fare in tempo Se siamo bravi Ok Un attimo Ti devo invitar Ti devo invitar Io ti invito Intanto T'ho invitato Io parlo Anche per tenere Su un po' L'hype Se no qua Dario Tutto ok No Aspetta Aspetta Mi sto riconnendo Ah ok Però io ti sento Vuol dire Non sei Disconnesso Aspetta Ok Ora si Eh Perché con l'hotspot C'è sto rischio Perché nel primo episodio Nel primo episodio Solo all'inizio Mi c'è adesso Eh Ti devo invitare O c'hai già l'invito Sì Sì Rinvitami Arriva eh Sì Dunque c'è la gente Sta a giocare Un veloce Due Però tanto Non è retributivo Sia l'audio Del microfono Vengono trasmetti Perfect Sofferenza Mamma mia Niente Niente Che merendine C'è niente Vai Vai Missione Fire Salta Riprendi Senti quanto grufo La Senti quanto grufo Esattamente la Hacker C'ha le C'ha i snackini Le magnano Allora dai Dammi mappa E codice Poi Del robottino Ci sei Ecco Allora Codice Ah Pensavo di darsi Prima la mappa E' uguale Dai 5 4 5 Non te l'ho data 5 4 5 4 5 4 3 8 Vabbè E' uguale Tanto non serve Niente C'è Serve dopo Pertanto sappiamo a memoria Dove stanno Però dopo potrebbe servire Visuale la mappa Sì Ma dopo Ho preso un colpo Ho detto Che è successo Ecco Sì Fino a qui Ok Laser Ormai Come se piovesse Lo sappiamo Grimaldello Virtuale Solito gioco Prefe Ti mando L'assistance Mi va Vai Questo qual'è Ah Quello che ti devo Sposta Questo Così te vai qui E lo blocchi E vai 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 Ti dico vai Ti dico vai Questo è Classicone Il migliore Il migliore Esatto Devi far su e giù Finché Ecco E poi questo sarà quello doppio Esattamente Eh Ecco Ok Vai Buon lavoro Ma Il sistema Non è stabile Sì Perché magari Con la mappa Uno vedeva Che Pannello di stabilizzazione Tra l'altro è piccolissimo Non l'avrei letto Mai perché lo sapevo Perché L'ho visto prima Attiva Adesso qua Tocca a fare Dieci minigiochi Di fila Ok Che succede Densità Densità su due Fattore di densità Su due Ok Dai Controllo Degli ulti Pneumatico Controllo Degli urti Degli urti Su pneumatico Tensore di velocità Su 97 Sì Premi Ripristina Scheda Te 97 Fatto Sì Regola direzione Del flusso Verso l'alto Ah ma So io Questo Accelatore Di particelle Su off Non ce l'ho io Ah invece Si Riempi Il caricatore Di energia Per favore Fattore di densità Su uno Te Stai fare il caricatore Di energia Quale è il fattore Di densità Ah questo Controllo Degli urti Su idraulico Stavolta Anziché pneumatico Premi Cerchio Come vuol dire Premi cerchio Premi cerchio Basta Non posso Come no Premi cerchio Eh no Non posso Devo E noi Abbiamo fallito Eh uno Sì Come Imposta Fattore di densità Su 5 Eh l'ho fatto Perfetto Ma cos'è Che gioco è La premia cerchio Non c'è Non c'è No ce l'ha scritto Sono premi cerchio Ma non è che dovevi Fa te Vabbè Adesso c'è Il Ecco Comunque È foldato Dai Speriamo che Ce l'ha salvato Questo Ah ecco Ti pareva Vabbè Non lo so Cos'era All'assicuro Dovevo farlo io Ma Stava smanetta Ma hanno preso All'assicuro Vabbè Non lo so Però tipo Con volevo di Niente Ti rinvito Sì Che era poi Ma Giovedì scorso Niente Dopo Devo scegliere Una bella Anteprima Per il thumbnail Di youtube Ma tanto penso Che L'immagine Del Del finale Tipo Un Un artwork Bello Del finale Se non è troppo Spoiler Poi in sovraimpressione Sai cosa ci potevo mettere Tipo 0 1 0 2 Però ma ci ha salvato Sì Sì Dai Dopo questo Sì Perché Abbiamo disattivato La griglia Adesso c'è la ventola No Che mi ci devo Buttare A breve Però Mi sa che Per la ventola Devi fare qualcosa A te Con Con Il robottino Devi andare Dall'altra Visto che Nella mappa Salta E riprendi Te prego Un'altra È disattivato La ventola La ventola Vedi dove Tipo Nella zona Gialle Le zone gialle Sono Vedi la mappa No Adesso mi sa che ti devo Ti devo guidare io Possibile Che io vedo le persone Come ti muovi Ok Penso di sì Io devo andare qua Ma perché le persone Ti fanno male Cioè perché ti dovrei guidare Se effettivamente le persone Comunque tu le vedi Aspetta Hai visto io dove sono andato Qua Dove 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 Ah forse perché Ah ok Ti vedo Qua no Qua è tappato Sì È tappato Lì Sì Aspetta Forse ti posso aprire Delle cose Sto scaricando I strumenti Di manutenzione Non so Cosa Sia Trave Su Rotaglia Ah ok Ti non riesci a aprir Quella porta Ok Ecco Ecco Attento Ti tolgo Vedi che Ok vai sotto Vai vai oltre la porta Stava ferma Te la chiudo Così Non ci penso più Eccoti Vedi Io ho questo Smuovendoti La sbarra Ecco Vai avanti di uno No Cazzo Hai fatto un'accelerazione Ho capito Devo Sì sì Io ti controllo Questa cosa Sopra Ecco Mi porto da qui No Devo capire No perché posso Modificare la velocità Di sto No te va tranquillo Ok Aspetta No 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 Do vai Do vai Qui Ah ok Perché vedevo Aspetta Ok No perché posso controllare La velocità di sto Cosa Cioè non sono tramite Le vitte Ma anche tramite I tasti Vai Dai tanto C'hai tre slot Aspetta Ok Adesso tocca Fa il contrario Vieni verso di me Sì io so che immagino Che abbia dei controlli Particolari Adesso lo faccio Tornare indietro Per andare sicuri Basta che te Appena sei a un millimetro Dal laser E io va Cioè te ti fermi Sì sì Vai qua Dovresti essere safe Perché Cioè ho capito È bene o male Ok Adesso abbiamo Meno margini Di errore Perché i laser Sono più intensi O dove devo andare Eh bella domanda Ti puoi buttare Verso di me No Buttati Aspetta Verso di qua Sì Ah no Hai fatto schiantare Trovato delle pulizie Ok vabbè Forse Ah no Sei già Sei già a metà Vero Perché c'è già C'è un robot Che è già a metà Sì ok Ok vai Ma dove caspita Devi andare Aspetta un attimo Questo è il cancello Di accesso Io ho altri Io posso solo Fare avanti e indietro Il cancello Fammi venire giù qui Che magari Riesco a vedere meglio Poi ti puoi abbassare Nella trave No Per fare Del genere Non lo so Purtroppo no Posso fare Trave destra Adesso io non la vorrei modificare Perché non sono Do 6 Do 6 No Dai sopra Vedevo meglio Aspetta Scanzo Mi voglio un attimo Concentrare Che ero un po' Sdrai No sdraiato Allora fammi capire Io posso C'ho trave Destra e trave Sinistra Però Ho pensato Tanto Se uso altri tasti C'avrò Altre cose Magari cambiando No perché tanto Perché ti ha fatto Forse devi arrivare lì Perché vedi che lì c'hai un'altra cosa Su un'altra piattaforma Sopra Ti non puoi saltare Vero? Eh no appunto Non lo so Cosa puoi fare? Che azioni puoi fare sto robottino? Ma ci vado qua no? Eh Questa roba non può fare su e giù Tipo Eh non che io possa Sembra tipo Ah aspetta aspetta Forse ho capito Lascio il robotto lì Ho capito Forse devo fare io qua Vediamo un attimo Eh Io qui c'ho Ti dici che quello è il montacarichi Giustamente Però perché Dopo puoi arrivare Puoi arrivare fino a qui Io intanto mi guardo intorno Però finché c'ho questo C'ho sto tablet in mano Con questi comandi Non posso fare altro Neanche volendo Non posso neanche annullare Ah si Me l'ha annullato Però uscendo dall'area Però Non penso si faccia così Cioè nel senso che Devo per forza ricliccare Su questo tablet Allora fammi capire Sì perché Il robot delle pulizie E vabbè Il mio è ancora lì dentro Quanti ce n'hai? Forse devo usare Ce n'ho due Cioè quello Forse devo usare l'altro Per fare qualcos'altro Eh sicuro Non lo so Perché cosa potresti fare? Non lo so Aspetta Vediamo un po' Intanto prendo un altro robot Intanto quello è ancora lì Ancora qua Ok lo vedo che l'hai preso Ho visto che l'hai preso Allora io sono qua Ma qua non ci posso andare Condotto di penetrazione E l'arresto di questo Andiamo andando qua Andiamo andando qui Ah puoi fare qualcosa Alle ventole per caso A quelle intorno Eh aspetta Alle ventole Sì però Non io posso fare qualcosa Con detto di ventilazione principale Alle ventole normali No No quello dopo Perché dove ci devo andare Dove devo andare Io do Eh esatto Quindi No dico che robot Perché Boh non so Aspetta Intanto che testa è smuginà Vado un attimo sotto Io qui non mi fanno Non c'è un altro punto Deve andare Comunque si Sembra Ah o ti vedo Eh io posso aprirti Solo il cancello Però mi è sempre inutile Sì no Forse con due Non servono due Dai torna dove eri prima Smuginiamo qualcosa Con quello altro Eh qui Tanto c'è una cosa morbida Su quel No non puoi cadere Perché allora Dovesti arrivare Fino qui Ci sono discese Salite No Ah di far cadere Il robot Sul tasto D'emergenza Semplicemente Ah ok Dov'è Eh divi Torniamo lì Dove tu ho disattivato Il laser Ok E' l'unica intuizione Ecco Buttati a destra Perfetto Ok Devo andare per la stabilizzazione Vai Porca misericordia Ah io Ah no Devo tornare Io che stupido No Hai droppato Porca misericordia No Un'altra volta E' distruttiva E' frustrante Pensa che Chi ci guarda Non è che ci guarda nessuno Però era bello questo Una bella live No 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 A me non ne frega niente Peccato Così Eh no Eh no Vabbè Però Tanto c'erano mille robe Da fare Ma guarda Che l'importante E' l'algoritmo Dopo che Che la gente Non lo guardi Non me ne frega Però questo Se qualcuno Se lo cerca Su Youtube Se lo guarda Tipo Spero che di si Ti rinvito No Ok Ci rinvito Ci rinvito Però è che sappiamo Però è vero Farire perché Quell'enigma lì E' strano Perché se ti butti In un posto X Da game over Quindi dopo Dici Ma veramente Allora mi devo Buttare sul tasto Effettivamente Si Comunque si rompe Però Vabbè Si si Però per di che Ti serviva A miglia Proprio è Però dopo Esatto Se lo cadi Cadi il momento giusto Spero Che faccia Basta Sto robo Si poi ci rivediamo Quando facciamo Ci abbiamo Connessioni potenti Poi Metti caso Ma te tipo Ci giocavi a Worldzone Qualcun così Con questa Connessione Io si C'è Lo strano che Quando facevo Smartworking Nell'altra casa Ma Ma per me Ma per me Ma è la play Che secondo me Non lo so Perché La play Tanto va benissimo Sempre quella Boh Si però Anche qui Anche la connessione Te hai fatto Quella cosa Del nut Lo sblocco Del nut Non lo so In che senso Che c'era da fare Un'impostazione Un Delle modifiche Su Sulla scheda Di rete Ma non Fisicamente Solo devi smuginare Su due robe Sulle opzioni Di connessione Ma sulla play Sì Sulla play Intanto sto Andando lì Alla trave Quando vuoi Io ti faccio Entrare Sì Che ti apre Il nut Però Non lo so Adesso non mi ricordo Se l'avevo fatto Su questa qui Però Perché ti ricordi C'era quella Che si era La ruota Vabbè Ma non lo so Vabbè Ma non penso Cambi niente Cioè Nel senso Poi è strano Forse sto gioco È molto importante La connessione In questo gioco Perché per forza È un cop Ally Quindi magari Basta che uno Non c'è Tipo È Droppa tutto In me c'è Nelle altre volte Magari Reggeva già Solo in single player Ti dimmi Quando sei con il robot Il punto è giusto È il suo rapporto Ah Non t'avevo visto Passare Ah aspetta Ah non mi fermo più Vai te Ti lascio il segnalino Di dove devi Ecco Buttati All'ultimo scacco Che puoi Fai De sto robot Perfetto Quindi torniamo Al solito Al solito cosa No Madonna Questo è maledetto Allora No Non mi piace Che Gli scompare Così Sto tablet Io ci sono arrivato Adesso Attiva In attesa In attesa Del partner Ok 10 su motore eolico Sono io No Sei te 10 su Medio Ossigeno su medio Premi anche da me C'è sto Premi cerchio Una goccia Una goccia L'idrogenitore Liquido Fatto Dov'è Premi cerchio Lo falliamo sempre Sto premendo anch'io Ma non è cerchio Secondo me Non è del pad E dov'è Ah è qua Connettore verde Flusso verso l'alto Di sul riparatore Di sovraccarico Dai che siamo a 6 su 15 Deseleziona la T3 e valvola Deseleziona la T3 e valvola Ok Urti su idraulico Deseleziona la T3 e valvola Lo so Lo so Lo ho fatto Lo stavo cercando Uno sul motore eolico Eolico Uno sul motore eolico Ah Tensore di velocità su 19 19 19 Fatto Sì Ossigeno su alto Ah Tredo di odio Sovrapposizione Stato Collega Connettore blu Vabbè ce ne sono rimaste poche Spunto la U2 valvola Stato com'è? 2 Adesso non c'è niente U2 valvola Fatto 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 Oh perché operazione fa Non è vero Vabbè A posto Diceva fallito ma non è vero Ok io posso scendere sto giro Vado C'è il video Te lo vedi? No Madonna Che tocca a far qui Ecco Condotto principale Premiere 2 No Hai droppato Vabbè che ci fai cominciare da qui Un'altra volta È una miseria Perché mi arriva il ping A livello allucinante Poi ricordiamoci Che c'è la missione finale Però Eh sì C'è Infatti io Ti volevo dire Venire un po' più presto Almeno per sicurezza Perché tanto Imprevisti ci sono sempre Anch'io faccio sempre I streaming un po' prima Perché tanto Gli imprevisti Vabbè ma loro non è un problema No no Però perdi Dimmi te quando ti devo invitar Stai riavviando Sono tutti i titoli che potete trovare Al Milano Games Week Ehm Beh roba Niente di Roba già uscita Dimiti quando ci sei Che ti rinvito Ehm Ok Adesso c'è l'abbandono E poi il ripristino Vai l'invito Vai 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 No dico a me l'importante è che i numeri vanno bene Che non mi cala la media Che tanto Tra i spettatori li abbiamo avuti Tanto purtroppo la legge La legge di Twitch Stai accettando? Si Cioè perché da me non lo dice In attesa Sto a fare caricamento Ok Ok Salta e riprendi E io stavo scendendo con la corda Adesso ci sarà un casino Che sono attaccato alla corda E te dovrai fare cose C'è la temperatura Boom C'erlo e vediamo Va là che sta droppate Dopo ogni enigma Cazzo Ok Parte subito col video Per usare la fiamma esidrica Aspetta Aspetta Comandi della corda Ti posso smuovere io Ah io vado su e giù Rimuovere la La copertura Questa è Ah lo devo saldare io Perfetto Vai Ma non Temperatura Ah troppo caldo Ok Allora aspetta un attimo Per tagliare io sta Allora io ti posso spostare È stato esposto qui Eh spostami sopra Eh però anche il corso si sta chiudere Io ti apro questo Ti scendi Ah non devo tagliare quelli Non ho capito Non devo tagliare quelli Quindi cosa Ho capito Aspetta sta fermo Ok Vabbè è facile Spostami più in giù Un attimo Ok No più Più in sinistra No di là Aspetta Ok Ah Non devo Adesso andiamo Vado giù Adesso di qua Mi devi Ti mi sposti Destra e sinistra Vero Ah giusto Devo rotare il corpo Prepedì meglio di qua Va Che è successo Che è successo Ho risultato la temperatura Mi è nata una di tre Ma cazzo Ma cazzo Valentissimo Eh lo so Quello è Ma velocissimo Ok No vedi c'è il tempo Ah ero ero di Non ero drittissimo Il piede Il piede Il piede Allora Aspetta E comunque adesso Meglio mettermi così Vabbè vai avanti Lei appena appare Succede qualcosa Perché non appare Ecco Io posso anche inditeggiare Per guadagnare tempo Ehi Ehi Non ti vedo più Ecco Vai rotati Ok Non mi aver fatto Sì poi io potevo inditeggiare Per Dare un po' più di priorità Di tempo Ok Stora le tascatolette Io pensavo che dici E' rosso Taglio i rossi Invece no Devo tagliare Ah beh Questa proprio senza Co'è Le barre di metallo Rosso Nera tagliata una barra di metallo Eh ma Come fa Vedi quale sono rosse Te le fa Forse te mi dici Quale devo tagliare Quale no Ah ok Eh sì No Sì Sì Quello no No Sì No Eh mi devi spostare un pochino Ah scusa Aspetta eh No No ok Chi vedete ti vedo No 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 Neanche questa Questa Qua sì No Aspetta un attimo Eh ripristina la temperatura Ok Eh si per forza Sennò non parte il video Eh cosa abbiamo mancato Ah maledì Ti quanto puoi direzionare No e ti basta che non mi fai colpire il rosso Io le devo No allora sono tutte da fare Eh sì sì appunto Allora vai torna in un'altra Torna lì Torna indietro Eh giù 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 sì Eh va nell'altra Su 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 Sì Eh questa fatta Lì su Va bene No 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 Qua giù Diva bene sì Resettami la temperatura e abbassami un po' E cambiami un po' insomma Abbassami un po' No di qua è Desta sì E questa dove? Eh vai più verso giù Qua? Sì Eh Questa non le posso colpire Dimmi te Eh su no Su 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 Questa su? Su 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 no Giù 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 Qua Questa che abbiamo saltato Lì lì va bene E l'ultima No l'altra parte Apposta Qua Sì Resetta temperatura E ci siamo Mettimi più al centro Quello mi scende in forza Volcat Eh sì Quali dei limiti E temi di usare Tattabiz di prove Insieme Al tuo pari Qua c'è un botto di prove Quali sono gli affetti personali Di Cypher Non hai permesso di accedere al database Database delle evidenze Eh sarebbe C'è un codice di accesso però Sarebbe Evidence sarebbe C'è anche il bat Cazzi Ah ok Premi per la creare Cosa vuoi sapere 4418 Il codice di accesso Il solito wifi Ecco A posto A che lancio Allora ripresa della videocamera Ripresa degli indici di riferimento Cyber squatting Madonna Dovemo Sospetti Accesso al telefono di Cypher 9096 Come? E adesso noi dobbiamo Scartabellastro database No? Come è che hai detto? Ok lo letti Cosa Stai per fare Io Ho tre riprese Della videocamera Che me ne guardo Perché tanto sarà utile Allora guarda le riprese Da videocamera Lista dei filmati Cypher Nome reale Sconosciuto Esatto Ti dice Che cosa vedi? Io ho accesso al telefono Cioè Andando avanti il video C'è una certa Accesso al telefono di Cypher 9096 Dice gli altri numeri Non puoi ripetere i numeri 9096 Io ho numero di serie Della pistola di Cypher 42 67 99 4 cifre da 2 C'è 4 numeri C'è 4 numeri Dopo io la pistola La posso andare a prendere Cos'è che è pistola? Di Cypher Un momento Roba c'è Scusi Elenco dei getti confiscati Allora Aspetta Aspetta Io posso andare avanti Indietro il filmato Ma Ebbene Tanto Conoscere il numero totale Mi sa Tanto no Dimmi il numero Dimmi il numero Dimmi Ridimmi 42 67 Aspetta Aspetta Eccolo Aspetta Ridimmi Ridimmi 42 99 Sì Sì 64 Come il Nintendo Ok Quindi questa Quindi cosa posso fare? Eh Che Forse Posso io Prenderla Perché io ce le ho fisicamente Tutte le pistole Armadietto Armadietto 74 Indice di riferimento MT 445 Armadietto 74 L'ho trovato E poi Davvero Apro E c'è teatro Ci dovrebbe essere dentro Quella pistola giusta Eh sì C'è una pistola Eh me la fa aprire Ma non mi fa fa niente Lo faccio indietro C'è che lo apro E basta Dentro c'è una pistola E basta Non ci fa fare Niente La apro Mi fa vedere che c'è Posso fare solo tondo Che è indietro Sto schiacciando Ah forse perché Devo Ed è una pistola grigia E con un po' nera Anche grigia e nera Insomma Col cari Io qua c'ho Perché io qui c'ho Un elenco dei citi Confiscati C'ho tu un po' di tutto Pistole E io c'ho tutto Anch'io qua C'ho tutto E qui senso Dobbiamo trovare lo smartphone Ah ecco l'ho trovato a caso Forse Mi dici Ecco Ho aperto Allora Se cosa è successo Ho aperto un armadietto a caso Con uno smartphone Mi dice Inserisce il codice d'accesso Del dispositivo Quattro cifre 9096 Codice non valido È 9096 Sì Allora non è questo Lo smartphone suo Dimmi quale può essere Lo smartphone suo Non so In che armadietto è Puoi sapere in che armadietto è Qua c'hanno tanti Dispositivo di comunicazione Telefono Opel 3 Telefono Global G6 Telefono True Touch 4 C'è qui c'è un bel po' Telefono High Profile X8 Dispositivo tecnologico C'è qui c'è un sacco di Telefono Samico 9 Reliche occulta No forse da un coso della telecamera Possiamo capire Dalla videocamera Quello che posso fare È questo codice 9096 Che c'è È il telefono di site Ah il telefono Perfetto Allora io basta Indici di riferimento Puoi per caso Sapere in che data Tipo di crimine Non lo so Io c'ho Una data per cellulare Lo so Eh dammi una data Eh dammi una data Gennaio 2037 Che numero Eh quello Nessun Non c'è Qua c'è solo dice C'è nella videocamera Dice registrato Nel gennaio 2037 Non dice Però Altro Aspetta un attimo Articoli confiscati Codici dei crimini Visto questo Però non cazzo Ho messo in ordine Di data Eh Sono tutte sballate Non c'è il 2037 Che l'anno scorso Sarebbe No Non c'è Non proprio In tutte le date Possibili Non c'è il 2037 Allora Quindi questo No Ma dobbiamo Fa qualcosa Con la pistola Di prima Allora Eh io non posso Farlo posso Solo guardare Tieni Normali Però Negli Però Negli Smartphone Intanto sto Scartabellando Però Negli Qualcosa Negli Smartphone Mi 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 Da quattro Cifre Ma ti fa vedere Che tipo di telefono È una marca No Esatto Perché te mi hai detto No Sono tutti Ne posso solo Aprire E basta Cioè Non mi dice Magari dopo che Te lo sai Me li puoi descrivere Sicuramente Ce n'è uno Bianco Uno Rosso Uno che pare Uno con L'isoletta No Come si chiama Quella dell'iPhone Che ne so C'è una katana Con le maschere Segrete Un mitragliatore Un thompson Con caricatore A tramburo Che ne so No thompson Un Sì Il codice del crimine Da me sono tre cifre E basta Cioè tre lettere E basta Tre lettere Noi c'ho due lette Ecco ti hai droppato Eh qui ti pareva Non lo so Io c'ho Se no c'ho data Il tipo di crimine Te ce l'hai Il tipo di crimine Sì E allora Dopo andiamo su quello Intanto ti invito Il tipo di crimine Sì Tanto uno Basta che legge Tutto quello Che c'è sullo schermo Bene o male Ricavi le informazioni Eh Con rivedere Sì Però Quello che volevo dire Devo dire anche Forse che Io sto usando Sto occupando Parecchia banda Per guardare Il mio stesso streaming Perché Così almeno Se qualcuno commenta Posso rispondere Se io provassi A togliere questo Dici Funziona O magari Si sarà Magari una sommatoria Di cose Dai l'ho tolto Alla peggio Comunque vedo Quando mi commentano Ma pare Apro la cosa L'importante È che la media Spettatori Sia stata raggiunta Perché Per la crudeltà Di questo mondo Salta E riprendi Io riguardo Il video Per sicurezza Se magari È cambiato qualcosa A me il video Mi dice solo Allora io ti hackero qui E ti dico subito Il codice d'accesso Di questo Serben Che è 3084 Allora 3 0 8 4 Allora Puoi dirmelo Quello del telefono Aspetta 3 No cosa vuoi sapere Quello del telefono Le tre lettere del codice No Quello del telefono Cosa Cioè c'erano tanti E qua Che crimine C'hai segnato C'è che cosa c'hai segnato Io c'ho un po' di tutto È giusto per capire Tipo Io ho nome Il gender Codice crimine L'oggetto confiscato No io c'ho solamente Io c'ho solo Però se già possiamo Il codice è il tipo di crimine Va bene Eh no però Nel senso c'è un bel po' C'è Sì ma Allora Te del telefono cosa sai Ecco questo Io del telefono C'è solo il codice Che è da 4 Accesso al telefono Sì 4 cifre 8555 Io do il video Posso vedere questo E basta E va bene Perché adesso bisogna sapere Chi è cifre Perché io posso avere C'ho un nome Il gender Tipo per fatti un esempio C'ho Emilio Pass Genere M Codice del crimine DRF Oggetto confiscato Dati personali Dispositivo tecnologico Oppure da un'altra parte C'è pistola Telefono Nakomi FK4 Capito Quindi uno di questi È per forza Cypher Ok Io Io No Crippio Tanto guardo Tanto guardo Se non Te Dario Se ci sei Ok 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 Non è fallito Allora Penso di aver capito Io c'ho anche il tipo di crimine C'ho indici di riferimento Io Penso di aver capito Io ti devo dire L'indice di riferimento Sì Se te mi dici Se te mi dici Il numero di serie Dell'oggetto confiscato Se te dimmi il numero di serie Della pistola Per esempio Ok Quella ce l'ho Adesso deve ripartire il video Un attimo Ok Cypher Nome reale Sconosciuto Far vedere tutto il video Ecco 4456 Ecco Infatti mi dici A partire da questo numero Ok 4456 4456 Perfetto È proprio quello Allora Indice di riferimento Ok Esce pure Dico L'indice di riferimento Nel crimine Sì Allora L'indice di riferimento È QP 341 Q Sì Q Q Orq2 L'avevo trovato L'avevo trovato È droppato No Un'altra volta Dai Non posso leggere Chi era Cazzo L'avevo trovato QP 341 Niente Dai è una roba per volta Adesso Che anzi Questo è Livello hard Poi adesso Io non ci avevo Neanche attivo Lo Anzi Ci sono Due spettatori E non sono io Quindi Perché appunto Io avevo tolto Per Quindi ragazzi Scusate Ma qui Problemi di connessione Ma chi è Magell No Fanno Schifo Il cuore Una guerra Guarda un po' Tutto Ti è arrivato L'invito Sì Sto entrando Adè famo Che siamo Un pezzo Molto bello Resistete Do secondi Che chi ha pazienza Ne goderà Sì Perché la gente Vuole sempre Queste robe Rapide Pospettato Io per esempio Guardo un sacco Di live Dove magari Uno un attimo C'ha un problemino Aspetti Due secondi Cioè Bisogna essere pazienti No come Imaranza Ecco infatti Come l'ho detto Un follower Per Che la gente Deve sempre Deve essere sempre Veloce Capito Non c'ha bisogno E guardate Una live Porca miseria Allora Ti dirò No prima ti ridico Quel ciaffino Sì 4 1 8 0 Per accedere Al wifi Le wifi Allora ti dico No Dimmi il numero di serie Dell'oggetto confiscato Ah Ti già mi hai aperto Il wifi Sì 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 Riprese della videocamera Deve ripartire Il video Sto ripartendo Da 2 a 6 secondi 3 4 5 Ok 24 00 Aspetta 7 1 9 4 Yes 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 Indice di riferimento BF Si fammi li metti in ordine BF 778 Si Data 13 marzo L'ispettore delegato Di quella volta L'ispettore Ponce Ponce Sarebbe in Sud americano Credo Ponce Ok E che ti dice 13 marzo 2034 Tipo di crimine Cyber Squatting Cyber Squatting CSL Codice del crimine CSL CSL Si Allora vado su Sospetti Vado su tutti quelli Che hanno fatto Cyber Squatting C'è un certo Augusto Anzi solo uno C'ha Le cose da confiscare C'ha una pistola Che può essere Che è quella Che abbiamo detto E un telefono Nakomi FK2 È l'unico CSL Con cose Confiscate Telefono Dimmi Nakomi FK2 Aspetta Che ci andiamo Ok Eccolo qua E dove sta In che Bauletto Armadietto 44 Vado subito Eccolo Vediamo se è quello Codice per entrare Abbiamo detto Sarà cambiato di nuovo 855 No 9232 Vediamo Eccolo Eccolo Di là Poi Io calo Faccio quel mini giochetto Sgami quello E' finita E' 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 Cina Dove ogni volta Veramente Singapore N'è più in su Va bene C'è io del cyberbank Ah perché sarebbe Cyberbank theory No Big Bang theory In inglese Ho visto Cyberbank theory Che non ha niente a che fare Con la rinomata serie tv Speriamo No scherzo Eccolo Si chiama Augusto Quindi No magari è un fake Ehm Dati virtuali Eccoci Final mission Ne droppai Almeno 50 Ecco Infatti No scherzo Sta caricando Non mi fa più male No 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 Sto zitto Ecco No Poi stavolta è vero Ma lei me l'ha detto Ecco Vabbè manca Comunque quando droppi C'ho il ping No ping a 200 Arriva Ecco no A me Arrivai sempre più tardi Giustamente Va bene Vuoi fare un riavvio No meglio di no Dai tanto un cambiancavolo Eh infatti In cambia niente Sto giro No Non cambia niente Sì 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 Ah c'è uno spettatore Che in teoria Non sono io Ma sono io No No io non sono Quindi unico spettatore Ti stai godendo La nostra tribolazione Nel Nel Ma sanno i soliti Valori Tanto sto guardando C'è qualche news Tanto Overwatch Si Non stimola A sbloccare Non ci giochiamo più Va bene Let's go C'è un clone di pittina Arriva Poi vi devo mettere Un gioco sul gruppo Veramente figo Ah no Ve l'ho già messo Però c'è un nuovo video Di quel Di quel clone Di Monster Hunter Nuovo Che manco mi ricordo Come si chiama Qua lascio Fare il video Perché magari E vai E vai Con la moto No, tipo se dovessero fare un nuovo gioco Di questo genere Coop, olli Più azione Cioè questo misto all'azione secondo me è figo Perché qua si vede che io non potrò mai incontrare altre persone E sparargli A meno che in questa missione ultima Non inventano qualcosa di eccezionale Però anche così è bello Perché alla fine è un puzzle game Perfetto Sono dentro Vado pieno di droni Un macello qui Porca miseria Aspetta un attimo Sì sì, io non mi muovo Madonna A che piano devo andare soprattutto Che qua è pieno di De guardie di robe cattive Allora Diventare te sei Io so il piano 57 Devi andare di due piani sotto Deve scendere di due piani Quindi uno e due Non c'è No io so No io parto Io parto Parto al 57 Ah forse c'è Non vedo che da che piano parti Però Eh non posso scendere Posso solo salire Mi devi guidare attraverso i droni Perché avevo aperto un attimo C'era il drone E ho chiuso subito Ah te sei lì Non sei il pallino viola Te puoi salire giusto? Sì Allora devi salire all'ultimo piano Allora Ah però vabbè ovviamente No posso salire e salire Ti posso salire Ok lui sono Durante te c'è un bastardo Ok Sono al 59 Che scomodità Potremmo fa che era il 60 No però Da qui Non mi capire Dice che ti sta venendo incontro Sì Sì L'ho aperto Ho chiuso subito Allora io vedo Io vedo Facondo tutta una piantina Che posso ruotare 360 gradi Con te Pallino verde che ti muovi in 3D Madonna io sono andato via subito Ok Però E niente Però allora aspetta No vabbè niente Non ci arriva da qua Vai il piano di sotto Ok Eh prima di sotto Sì In pratica Toccava Detocchera fare un po' di Sì Ci sarà un labirinto Che tu mi dovrei suggerire Esatto Vediamo un po' Allora vediamo un po' Io posso L'MP Disabilità L'MP Tutti i dispositivi Elettrici Come i droni Questo è più Una frequenza Perché sto enigma E' più E' più Complesso Da setupare Piuttosto che poi Risolverlo Sì infatti Allora Aspetta Mostra pavimento Ah ok Posso disabilitare i piani Madonna Va bene Io quasi vado un po' a muzzo Qua pare che non c'è nessuno Fammi da un occhio Poi l'ho terminata Cyberbomba No Frequenze del drone Qua c'è un drone Ma è lontanissimo Ah ho capito Allora aspetta Vai un attimo Vai un attimo al piano di sopra Al 59 Sì Tanto c'è C'è un cenotari C'è il 57 Un attimo Ok Ok Se io Quello è così Vediamo Sì faccio questo Vado qui E io ho un drone davanti Ah download Carica mp Ah me l'hai dato Ma hai dato una granata Ah ok Quella granata La puoi tirare Cosa puoi fare Sì Penso che Posso lanciarla La lancio la su di lui Vedi cosa succede No ma sgara Ah forse dovevo detonarla in aria Ho visto l'aria della bomba Non è tanto grande No però l'avevo preso Solo che dovevo ridetonarla da capo Ok aspetta No ha cambiato adesso Aspetta che è cambiato C'è la granata Do in mano No Allora aspetta che te la do Quindi dal 59 Riparto Sì ora ce l'ho Prova a tiragliela No è droppato No Però Come fo A lanciagliela Cioè io devo sapere Se è girato Capito Se no Io apro la porta Ah ok Bene Posso dirtelo il verso in cui È rivolto verso di te o no Aspetta un attimo Che mi dico il metro Sì Dovresti saperlo Sì 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 Io vedo che fa avanti e indietro In realtà Vedo un po' Un pallino Però Eh quando è indietro Io entro Io la lancio Però è strano Perché Come dicevo io Adesso che volevo Che si sparava Hanno messo Una meccanica Di puntamento Che non c'è mai stata Perché io adesso Devo fare un bel lancio Palombella Capito No Vabbè Perché può essere Che No Dimmi te Quando ti devo Rinvitare No No Pronto? Sì Rimandomi Sì Bombe Ogni bomba C'ha il suo codice Per disattivare un drone E di droni ce ne è bastante Ah ok, quindi Sono nominative diciamo Sì E però dopo lo disattivo Per sempre, speriamo di sì Non lo so, infatti volevo vedere Che succedeva Se lo distruggi Oh Povero Attivare Ma questa è la final mission A post Singapore Sì Skippamo Sì Tanto sappiamo E non ci fa fare i prendi Perché comunque è il primo enigma Ping 45 Ehm Ehm Ecco eh No Va bene Trovare le coordinate della bomba Comunque pensavo Se te registravi anche te Se ti si poteva mettere in sovraimpressione Capito Sempre Tipo anziché la faccia mia C'è Tipo più piccolo Perché magari uno vuole vedere Agent gameplay Che ne so Vabbè comunque Ehm Che piano devo andare? E tu sei qui Vabbè non l'aspetto Vabbè vogliamo prima capire cosa fa la bomba Un attimo Sì Aspetta che ti do una bomba Tanto le puoi fare all'infinito Penso di sì Quale medaille per chi drone? Per quello dell'ultimo piano No ho sbagliato aspetta No vabbè lo stesso Vai Puoi usare quella lì su Ok lo sto seguendo Se lo segui Sì No si gira? L'ho neutralizzato Mi sa che è morto del tutto Sì Qua c'ho una serratura Vabbè ormai la fora Anche se non si dovevamo andare qui No no non c'è andava Qui E' una stronza vuota quella C'è senso Vabbè ormai devo fare per forza Vabbè 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 Questa Non credo Non credo Oh no torna Ah si sta riparando dice però vedi Vabbè dimmi dove devo andare No vabbè torna indietro allora qui non è serva Anzi no Arriva fin in fondo Yes sir Ora Questa no Questa no Ah no ci sono scale qua Niente Andando via Ehm Lì c'è aspetta Se si fa titolo la bomba Così intanto Tanto di famo fuori Aspetta eh Rimani aspetta lì Sì Ti metti da la bomba Poi il drone non si riattiva quello che c'è scritto riparazione ma Sarebbe più logico che sta fermo Ok Poi aspetta Dimmi Dico quando agire Aspetta Adesso sta venendo verso di te Ok vai Non lo vedo No no aspetta Sta venendo verso di te Ah Eh cazzo Te mi hai detto vai Eh sì perché fa solo quel tratto lì Anzi è già disattivato a posto Va dritto Va fin dove eri prima Io intanto ti do la bomba Sì ho capito che il fogo e poi non ci arriva davanti a me in teoria Eh no perché si ferma Cioè si ferma lì e torna indietro Fa solo quel tratto lì Mi aspetta Aspetta lì No infatti va lì e torna indietro Va dritto avanti e indietro è proprio molto veloce Ecco A posto Va bene Sì basta che la lanci a casa ho capito Allora vai Ok vai lì Vai lì sì Aspetta Qui c'è un altro Lì dietro c'è un altro drone Adesso a sinistra Adesso a sinistra Alla destra Alla destra Alla destra Alla destra Ok Ci sarà un drone Io ti do la bomba Io ti do la bomba E adesso ecco Ecco adesso di spalle fa un pezzo dritto Poi appena gira tra poco gira e torna indietro Nooo non ho fatto in tempo a detonarla Vabbè Vabbè Sono tutti disattivati fino a lì no? Sì Ma a me sta roba è molto positiva Molto positiva Sì perché sto gioco comunque è tutto un gioco di enigmi Queste robe dici le fa un po' schippa anche perché sennò è troppo frustrante Cioè o facevi il sistema di MP meglio Che non era così macchinoso Dammi la bomba quando vuoi Vai poi Aspetta E vai Ok vai dritto Ah perché in verità non è che è destra o sinistra Ah ce ne è dritto qua vado? Sì Cioè se lì c'è Serratura Qui c'è il primo coordinato Ah no c'è una serratura da fare Vabbè fai Vai fai Sì sì non c'è mai Non è mai stato il problema Grimaldello Ti richiedo per favore Fammi un po' Vabbè noi dobbiamo solo fare inutile che Allora Questo va giù Incastrami Aspetta Incastriamo questo Bravo E poi vai Ok C'è il primo coordinato della bomba C'ho il proxy e le coordinate Ah dimmi Dimmi Prima coordinata Cyber bomba E speriamo se quella 07 Sì 95 04 04 Questo sarà un suo database Dove abbiamo Ok E niente Puoi sempre andare via Comunque ecco Sai che genere sto gioco tipo un escape room E' tipo le escape room E' tipo le escape room ecco perché non ci può essere da sparare Vabbè Un esploro virtuale Ed è dove torno ai primi Dove è iniziato il gioco No aspetta Aspetta Torni dietro Torni dietro Allora Rimani lì un attimo Allora fammi capire Sì comunque dobbiamo andare lì allora ti serve la bomba per il numero 8 Aspetta Aspetta Allora te la do Che è questa qui Non mi piace che ognuno c'ha una bomba Forse è una bomba di hacking No è un MP Allora perché l'MP non funziona E' una frequenza Ah Cioè qua c'è una lista di frequenze del drone Ogni drone ha già un suo ID Io c'è nessuna frequenza e ti do la bomba corrispondente Praticamente Nooo Hai visto che è esploso proprio quando Sì Infatti tu Però è già disattivata forse Ah beh che cù è giusto Però vedi che me lo da rosso full Ok vado avanti qui Vai qui Vai avanti vai avanti Vai al pieno di sotto Avanti Ah 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 beh ma qua praticamente Mi hai fatto tornare No aspetta Ma stupendo Stupendo abbiamo finito Ma io so perché son salito mai scusa Ah no questo è Vai 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 No non ho capito Non mi riesco a orientare Perché io prima Torno lì Torno lì Sì sì E' cambiato mi sa un po' la Ok ho cambiato Ok non sono nello stesso punto La conformazione della stanza Comunque esatto Torna giù Ok adesso ti devo aspettare Ti devo da C'ho un drone davanti Ah no sono da un'altra parte infatti Ok Eh ti devo dare la bomba al 5 Ma al 58 devo andare Va benissimo Ma c'è te scusa un attimo no? Ma c'è te Prova andare giù del tutto Prova andare giù Prova andare ancora giù Di piano Ok sì ho comunque ho fallito quella bomba Eh qui sono al 57 però dall'altra parte Perché io prima qua vedevo Ehm Un'altra cosa dalla finestra Ah ok niente no va torna su Torna su Al 58 Perfetto Sì sì no torna qui Damme la bomba Ce l'ho data una bomba No l'ho sprecata Ah ok Eh aspetta Sono finito No Dimmi quando torna indietro Allora aspetta viene verso di te Ehm Ancora niente Eh torna indietro vai Perché in verità non è che Avanti indietro cambia C'è tipo l'allerta gli sale lo stesso Quindi basta che me la dai Io appena apro la porta gliela lancio Ah ok Quindi dammi Anzi dimmi quando Dammi la bomba e dimmi quando E' qui davanti Eh aspetta sta tornando verso di te Aspetta Sto spavendo l'angolo Sì appena è qua gliela lancio Va bene Eh lì Praticamente lì Si torna indietro Non l'ho preso Eh più Eh comunque è troppato vabbè Ecco No proprio di sì Che Non facevo in tempo Ecco Interrotto Stava legge bene E ti paremmo Eh infatti E piacerebbe Dimmi te quando ti devo l'invita' subito Ah è subito Comunicato Oh mamma mia no skipiamo fa riprendi no vero però dubito anche che i cloni i droni siano disattivati ah è vero poi cazzo perché non ci fa fare i prendi abbiamo preso un checkpoint vabbè forse magari l'ultima è breve no vedi proprio da capo vabbè è sempre lì la bomba l'ultimo piano quella roba lì c'è la bomba scusa le coordinate si è andato intanto per l'ultimo piano ok allora qui c'è dammi la bomb sono sempre lì allora ok vedete la bomba vai sei no ho sbagliato io pensavo no no non mi becca non mi becca invece si no ho voluto fare il fenomeno ho detto intanto Dario mi carica la bomba eh ci ho messo un attimo allora aspetta perché è veloce sto droga ecco io lo aspetto all'angolino qui adesso torna indietro lo sta per superare un 3 2 1 eccola vabbè però ce l'ha dato buono comunque a posto va avanti perché non si capisce come ok puoi andare senti che quando torna indietro vai aspettalo lì quante record boh ormai ormai forse le robe allora ah questo si può incastrare il secondo vai incastra ok vai guarda che non esce perché vedi quando fa sti caricamenti c'ho sempre paura ok dimmi prima coordinata lì c'è scritto se è prima prima o seconda coordinata no c'è scritto proxy scb 2 coordinate 73 33 aspetta 73 33 10 ok vabbè però tanto penso che dobbiamo fare in ogni caso non ci interessa perché hai detto in entrambe le le stanze è arrivato lui adesso devo andare dall'altra parte si torna giù si torna ah c'è l'orto aspetta c'è l'orto che è comparso ah quello è il numero 8 adesso mi ci tuoi ti devo dare la bomba no ho sbagliato ho sbagliato la bomba ho sbagliato la bomba tira la cazzo eh a me ma io la posso già ah ho capito visto che sto gioco non è in tempo reale tra virgolette io posso già lanciarla e poi farla detonare vedi allontanarmi ora ha senso ho capito come gameplay perché ho detto mi pareva strano che devo farla veloce beh io l'ho fatta la speed run cioè che la lancio e dettono subito però ufficialmente tu la piazzi e poi la dettoni perfetto quindi cosa sono sono l'ultimo piano di sotto allora vai è benissimo si aspetta intanto ho dato intanto ho dato quella poi aspetta ok tira la cioè arriva lasciala pure lì te lo vedi dimmi quando la devo detonare io lo vedo dico io quando vai posto vedi anche più senso ha tutto molto più senso non fare quello se c'è da fare no avanti allora aspetta aspetta qua c'è un corridoio noi cosa dobbiamo fare oh chi mi sta sgamando un attimo sono entrato ok no segui il corridoio tutto fare tutto il corridoio arrivi in fondo ok aspetta che non 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 entrare nella porta cioè non passare la porta adesso ti do la bomba e dov'è il bomber no eh scopriai eh beh eh ecco che pareva cato mi stavo acquistando dai dai che poi sto pezzo tocca farlo defila che rognamon che fa tutto da capo ogni volta aspetta un altro mi riconnetti non serve a niente tanto oggi ti rinvito subito ti rinvitato ah ok stavo riconnetti oh ci sei ti devo rinvitare sì vai ma comunque c'è uno spettatore che non sono io in teoria perché non mi stavo guardando dentro proprio per questa questione sta ridendo delle nostre disgrazie sicuro potrebbe mandarci 4G 4TAC il telefono eh lo so ma perché è così stabile la connessione no dicevo potrebbe mandarci un messaggino sto tizio vabbè comunque mi pare perché non pare che non sono io perché adesso invece adesso io sto guardando ma non è aumentato che uno si guardi di default comunque sta live dura molto di più della prima nonostante pari cioè poi secondo me la penultima la quinta missione molto scorrevole se non fosse successo quel macello secondo me eh cioè sì infine ma anche questo sarebbe sì quest'ora noi eravamo in fondo per dire ce l'avevamo finita può essere perché noi ci no in effetti per pensarci bene è così pensa che roba lui fa conto che non dobbiamo mai ripetere nessuna azione eravamo eravamo non dico finita ma quindi torno all'ultimo ma chissà se la sequenza è sempre quella oppure ogni run cambia perché se no uno fa può essere speedrunnato tranquillamente sto gioco dammi la bomba dell'ultimo piano come al solito ecco tiralo all'angolo ti dico quando andare vai sì l'ho visto allora vai tira l'angolo aspetta sì tira l'angolo all'angolo vai matto tira l'angolo aspetta oh cazzo questo io vai tiralo un po' avanti all'angolo sempre ti dico quando fa come si va tanto lo vedo post perché il tempo che ha ok aspetta non è qua orca misera che mette posizione oh shit ma mai tocca farlo questo vabbè lo faremo vabbè mai avevo fatto un macello ah dimmi devi togliere quello così incastro quello che toglie quello capito vai sposta quello ah posso io ok quindi non è qui dentro alla fine ah ci ha giocati dimmi dov'è tutto aspetta che c'è un drone che lotto che fa l'angolo no vai torno ma io passo da lanta pari torno no devi indorne la porta che sta avanti ah ok quindi fino a qui è giusto si allora va all'angolo deve tirare l'angolo e tirare sull'angolo e ti dico quando fa l'esplode si poi lo vedo in merita vai vai entro lì no no indietro torno indietro torno indietro via destra ah questa ah si se no mi sgamava mentre che eravo grimaldello please ah lo incastriamo questo vai incastralo vai quando mi passa la schermata gigante mi ha preso un colpo ho detto che invece devi solo capire ok dimmi 95 13 83 questo è scb1 non so va bene ok esci prosegui proseguo o torni indietro prosegui lì prosegui lì ok piano di sotto sicuro si scendi ok di un altro tanto questo quello di sotto scendi di un altro scendi di un altro perfetto a posto aspetta che ti do la bomba per sto bastardo ok l'ho visto giusto per vederlo allora eccola tira la si insomma tirano lì all'angolo vai ok eh niente prosegui si ah no mi ha gabato eh no torna indietro all'inizio proprio sì al secondo piano insomma al 58 sì sì aspetta ecco no da qua dobbiamo passare va bene per favore fa veloce che c'è un panico non so perché mi ha preso un panico della connessione ad è così eccolo porco zio no ma perché troppa ma hai droppato eh lo so eh ho fatto detto porco zio per quello dai devo riuscire vadoci intanto c'è Dario Moccia che c'ha 9000 spettatori ed è porco zio e non fa niente solamente perché lui la gente piace sentì parlare delle robe sue vabbè quindi come famo però questo questo è dura cioè dobbiamo fare veramente veloci veramente veramente veloci noi siamo eh ho detto che spera io adesso ho disattivato tutto te hai tolto cazzate computer non lo so telefono no no il telefono appunto è da dove che rottura di balle io ti ho invitato io ti ho invitato ok e di ah no mostramo tutto sì ok 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 ecco ma riconnettiamo sbaglio non c'è niente cioè a parte la connessione e l'hot spot sì sì post c'è non c'è nient'altro connesso cioè no se si poteva ottimizzare al meglio visto che cazzo questa era tipo la quarta volta che lo rifamo e non ci da checkpoint capito io non so eh non lo so ma anch'io cerchiamo di far veloci qui non si è stabilizzato niente l'altra volta una certa la tele hai provato a mettere su sul balcone qualcosa del genere adesso no non cambia niente cioè sì fino adesso è stato fuori ma non cambia niente vai ecco comunque basta che fa il quadrato non c'è bisogno che vai sul pallino se lo so perchè l'altra volta in attesa del partner ping 41 perché il perché di sta cosa oggi non lo so salut ok dimmi dove ok aspetta un attimo ok allora vai ultimo piano aspetta ti do una bomba vai lì davanti a te esporto un angolo buttalo nell'angolo sì l'ho visto l'ho visto cioè che io faccio sempre avanti indietro per vai ok perché nella porta qua subito vai questa dai dai che forse c'è andata bene prima primaldello no cazzo dove andata ok ti sposto questo così tu lo puoi lo posso lo possiamo bloccare perché basta che mi sposti quello ci sono perché vedi quando fa sti caricamenti poi se l'ho detto anche prima fa un po' paura che carica le coordinate cioè calcola la sincronizzazione tra i due e serve coordinate 75 84 e 39 ok adesso aspetta un attimo eh niente comunque prosegui prosegui lì cioè torna indietro torna indietro torna indietro ti va per le scale va al pieno di sotto ah stavolta allora fammi capire no no scusa so io stavolta mi ha fatto discone mamma mia che situazione ho zero batteria devo giocare in piedi se mi aspetti mamma mia ma ah il controller cerco di capire la strada dobbiamo andare lì sì io mi so seduto so seduto sulla madonna è diventato uno stress sta live tipo nonmai un comfort ok sono al 58 che devo fa va bene lì ok prosegui lì c'è qualche monster aspetta c'è uno c'è uno che stappa fino in fondo ci arriva qua no è stato indietro se te corri vai nel corridoio in mezzo sei a posto ah poi me l'hai data per sicurezza questa la posso la posso sprecare ah mi sono ucciso sei a posto ok 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 no no torni indietro vai prima di sotto ma non sono sono già al 58 ah no sei già sei già scusa 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 vai 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 aspetta che spina certo un angolo vai storni indietro vai 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 va nel corridoio va fino in fondo e niente prosegui aspetta devo darti la bomba per questo a destra o a sinistra a la tua a sinistra ce ne ho aspetta ok l'ho visto sta tornando indietro lento a me molto lentamente però va bene ecco ho girato l'angolo vai gira gira una bomba lì va bene lo vedi che arriva vai mi stavo per uccidere prosegui gira lì a sinistra subito ah è questa la serratura vado si vai vai quindi già siamo non ci siamo mai arrivati qui in verità no allora mi devi spostare devo spostare questo che ti sposti quello che però va no cristo no ne ho fatto ma cazzo ne ho fatto mamma l'era cristo cristo di diesel dai dai veloce 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 ma come è possibile ma poi sempre lì c'è qualcosa che non va perché adesso sta diventando quasi un tormentone non è un conto un paio di volte ma adesso è proprio sistematico infatti c'è qualcosa che non va proprio non lo so perché cazzo è troppo preciso secondo me è il gioco che siccome cade in certi punti devono essere totalmente la connessione qua è fondamentale quindi in certi punti capito sbarella e dal drop sì perché cazzo è proprio cioè preciso liti no sto a pensare soluzioni a caso però tipo o lo rifamo tutto un altro giorno poi dovevo rifare tutte le missioni dalla 4 ho capito però quando lo favo che se tanto e noi lo volevo chiudere comunque così domani uploadavo ed era a posto però ma proviamo vediamo ci accorremo vediamo beh no non lo so perché cazzo è veramente proprio preciso così oggi non lo so purtroppo andi continuo come sta attattata così un attimo sì ultimo piano come al solito allora dove sei te e sono il 57 ecco vai ultimo piano allora aspetta ok allora ti do vai l'angolo sta andando verso di te aspetta che torni indietro ancora no che sta tornando indietro puoi andare avanti di pronunciarlo nell'angolo e aspetta vai vai presieghi la porta subito a destra quella lì vai ah come prima quindi mi sa che prima ci ha cambiato perché abbiamo proprio resettato il gioco come sa non è vero abbiamo sempre resettato il gioco vedi che qua fa un caricamento lungo sospetto mi devi spostare quello esatto così mi blocchi quello vai ok torna indietro no prima ti devo dire come già sai dove devo andare no 75 99 no perché mi hai detto di tornare indietro te sei già qualcosa vabbè 75 99 47 sì sì perché io già vedo io vedo tutto cioè già vedo dove è il secondo posizione già so e allora con te serve ste coordinate qui eh perché le devo le devo mettere qua nella mia notepad torna indietro eh ma c'ho una cosa con il dove mette il codice intanto io l'ho messo eh ma tanto servirà il gameplay sennò è inutile che mi fai fa sta roba vabbè dove devo andare dai dai seconda fase veloce torna giù sì sì ho messo i codici dopo metterò il secondo codice poi vediamo vai avanti qua ah il codice ok per te sì sì a che piano il secondo va bene lì aspetta presegui 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 aspetta che c'è un drone che il ciccordorio lungo te devi te devi no no eh nell'angolo opposto però ti basta che vai ah quello solito vai aspetta non posso ok quello solito che devo prendere il corridoio lungo sì sì adesso vai presegui fino in fondo c'ho una cagarella se si può di però a me si può di tutto dai dai famo veloce per favore aspetta cioè manco fosse butta la tua sinistra 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 no dall'altra parte dall'altra parte buttala nell'angolo in mezzo subito buttala nell'angolo in mezzo subito che arriva vai a posto ed è questa subito qui vai porta sinistra porta sinistra sì dai manca questo e poi poi è finita veramente perché dopo ti devo dire le coordinate te le inserisci da checkpoint sicuro esatto ah vedete vai quello sopra quello sopra vai 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 te le dico eh veloce segnale subito 82 83 22 82 83 22 ok beh addirittura vedi questo è in due fasi perfetto guarda se oh eccolo porco di ah ha droppato ha droppato ma almeno ci abbiamo il checkpoint non ce posso crede non ce posso crede vabbè tocca fa così a me tocca andare avanti però c'è il checkpoint adesso è troppo sistematico hai detto bene poi c'è un spettatore che non si sa chi è che non sono io perché non sto guardando da nessuna parte c'è cazzo io spinto pure il telefono chi sei c'è la warzone questa connessione non ce posso crede eh ma questo la rende questo gioco la rende più essenziale c'è proprio veramente sì tanto ci vuole una roba talmente sincronizzato no sa anche comunque è un gioco indipendente quindi tipo hanno fatto che come ti dicevo tipo già su warzone se droppi magari puoi rientrare subito dopo non crolla tutta tutta la la partita invece io invece qua uno osta magari no santo va beh sì meno va là che si ti fa il primo pen ah singapore giusto faccio riprendi adesso io sono in mezzo a un sacco di gente chissà che cavolo dovrò fare ma sicuramente è molto breve tipo può essere che abbiamo finito di solito so due o tre fasi con degli enigmi tipo quella già della bomba secondo me è metà missione ma aspetta che ah ok allora aiuto il tuo partner eccetera la cyber bomba va bene ok io posso switchare tra rete e ho due modalità di visione normale e rete che vedo tutto virtuale tipo cosa devo fare i di virtuale non scorsa allora io vedo vedo i droni cosa vedono vabbè non ci importa io ho dei flussi di rete dove posso scansionarli tipo ti puoi ti cosa puoi dirmi vinseng io posso scannerizzare delle cose che chiamate flusso di rete sono dei dei triangolini a caso ah mi danno tutte le informazioni di quell'area immagino si te però temporaneamente capito non è che posso starci no però a me rimangono i dati rimangono allora si mi sa se comparsa un po' di nomi della gente varia allora vediamo un po' noi dobbiamo io ecco sto raccogliendo tutti i dati sulla gente che sta all'intorno con le frequenze io di ogni persona ho di ogni tizio ho nome frequenza di trasmissione e cosa fa sono estremamente divertente anarchico del fine settimana campione di scacchi grande ballerino campione di scacchi vabbè non ci interessa eroe nazionale non è che ci serve ah io vedo la bomba però cioè nel senso c'è un'icona di una bomba sarà quella voglio dire mi pare strano cioè questo vedi dov'è guarda aspetta ecco vedo te e mi devi fa apri qua state proprietà privata state alla larga me la puoi aprire in qualche modo no vedi dove no si ho capito dove sta cioè ho capito vedo vedo da un drone vedo te che dove sei vedo che sei lì ho anche una mappina con il simbolino dove si muove ho capito dove sei perfetto come si può aprire questa porta cosa ti chiede una password c'è scritto proprietà privata state alla larga non so magari mi serve un id di qualcuno che può entrare aspetta vediamo cosa posso fare di uno tosto ah ok mi ha preso un colpo allora io posso chi è uno che potrebbe entrare te lo scannerizzati quasi tutti credo sto sparando no torno indietro no va dritto 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 no no tornerà esatto vai lì qua c'è uno dei diretti da sbloccare ecco aspetta aspetta mini ah il drone vido il drone chi se connessa questo flusso come faccio a commettermi ci deve essere un trasmettitore e dare la stessa frequenza nelle vicinanze per connessi questo flusso che vuol dire eh perché non c'è ma io te l'ho attivato eh appunto c'è ah aspetta forse non ho questo eh ah cosa mi hai mandato decifratore password me l'hai mandato te ah ok boh penso di sì in qualche maniera in attesa che il tuo partner ok due corrette due errate e quindi vuol dire che no hai droppato eccolo questo non lo faremo mai di sto passo sì no vabbè però già siamo avanti sappiamo che dobbiamo andare lì ma io non ho capito cosa mi hai inviato cioè me l'hai inviato tu sì ho preso su vado lì vado di rete quindi che io perché dopo una porta dopo ok perché dopo me ne ero andato non ero più vicino a quel coso di rete ero vicino a un altro mi è apparso sto sto tablet in mano sì ok no ho capito devo cliccare io cioè io perché c'è una mappa posso cliccare su una di rete che te secondo te te sbloccando le aree mi sblocchi steno di rete a cui io posso cliccare se ci clicco niente ti compare quindi io stavo hackerando quello che guardavo prima in verità non quello che mi è arrivato dopo sì perché proprio quello abbiamo scelto alla fine ce l'ho scelto io perché mi pare che smacca qualcosa per andare avanti ah ok tu hai potuto vedere quello allora torno in quello lì sì torno lì e vediamo sì tanto sì ma poi non penso che manchi molto abbiamo localizzato la cyber bomba poi tanto non è che c'è le boss fight magari ci sarà un mega enigma finale dove avremo già un checkpoint e poi basta dai penso che c'è la bomba ci sarà lui poi basta sì ci sarà il bastardo allora torna lì sì intanto raccogli quello che vuoi è questo confermi che è questo quello utile sì sì però però adesso non c'è non fa niente di fatto cosa ti è allora prima torna lì ma io non ho cliccato niente cioè nel senso io posso ah aspetta ah sì sarebbe che adesso posso hackerare come sul treno dei cristiani avevo attivato lo scanner di un cristiano però non posso hackerare quelli a caso devo mi devi dare delle info giuste allora aspetta noto signore del crimine ho tu beccato la volpe di wall street vabbè ingresso terrazza panoramica seleziona e vedi dettagli famoso ottore bambino 25 gigahertz ma scusi ho hacker o ti devi creare qualcuno ti vedi gigahertz di quelli che hackeri no allora aspetta allora aspetta un attimo dimmi chi dimmi chi vedi ok io dvido schuven spazzo devi chanarmi schuven shabalal schuven sh si sh ufen eh ma soltari sono tanti sprite da controllare eh vabbè non so dovrebbe essere dovrebbe essere nelle vicinanze ah vicino ah vc ok c'è una zona sì c'è dovrebbe essere io c'ho david sim che è quello lì criminale schuven sh ufen no sh ufen sì non è tra quelli oh vai e lei schuven long no shabalal sh abalal eh sì oppure aspetta anche muoma deng puoi creare richard dung perché marichi perché hanno una grandi gigahertz perché hanno gli stessi gigahertz muoma deng va bene famoso ottore bambino aspetta io me l'ho fatto va bene va bene va bene eseguo due corrette due errate due corrette e tutte e quattro sono corrette ma due in posizione errate è ovviamente stessa cosa si lo so centri ok ok imposta come trasmettitore vai questa persona è impostata come trasmettitore quindi ok aspetta devo fare io ok ti ho aperto una porta vai avanti a sinistra come sinistra no no indietro indietro ecco lì lì c'è una porta esatto l'altro c'è qualcosa si c'è non ne so cosa c'è lì dentro c'è qualcosa di utile boh no c'è la serratura al solito nostro minigioco ma non me lo fa fatto all'altro è proprio spento c'è lo sprite di quel gioco lì no quello lì delle che dovevano spostare orca indovina che è successo eccolo allora sappiamo già che lì non c'è niente però no se si ricarica dice qualcosa sta a vedere sicuro no non c'è niente non c'era non c'era niente ma ne fammo un' si perché ci sono i nodi i nodi mi dico mi dico i giga è una volta che c'è grazie tui scanner io capisco i nodi mi sbrocca i nodi c'era uno che diceva e io con i gigahertz i nodi mi dicono per essere sbloccati devi trovare un gigahertz c'è c'è il trasmettitore con gli stessi gigahertz ok di anche di la tipa anche di la tipa vicino al nodo ha sbloccato la porta poi io non so quale delle porte giuste ce ne sono tanti e io voglio quella che ti avevo detto quindi andiamo direttamente in cui non c'è eh no eh ma quella non c'ha non ha un nodo che la sblocca e quindi cosa dobbiamo fare eh penso che nelle varie porte che si possono sbloccare in qualcuna ci sarà modo per sbloccare quella grossa può essere va bene va bene proviamo così vediamo l'idea è questa già ping 281 adesso me da ah no adesso cala perché sta inizializzando sta si sta stabilizzando 109 ok è stabile è stabile forse perché l'inizializzazione deve caricare ok allora e niente se inizia sblocca tutto ma se no prosegui qua non vedi perché mi sbloccano rete wifi ah ma aspetta no ce n'è uno che sblocca la porta in fondo vai lì vai dove nella porta in fondo dove dici che c'è la bomba eh perché sarà che io te la devo dire ok e chi c'è e tutti gli altri che servono forse niente vabbè perché io in teoria devo sapere dove e ci vado ti dico aspetta ti dico chi devi hackerare per che la porta lì merlin poer no Hans Lim oppure Felix Hans Lim Felix Clayton in quella zona lì comunque Hans Lim Hans Lim si sono questi Hans Lim o Felix Clayton ma magari non è lì capito boh ma però dice che deve essere nelle vicinanze quindi deve essere vicino per forza eccolo Hans Lim autista pericoloso vai si esegua io la prima la eseguo sempre tutti i zeri due corrette due errate e allora io faccio sempre la solita roba solita storia quattro corrette due ok ha creato applica ok sospetto ti sbocco la porta io ok vanni là dove c'è la bomba si aperta adesso c'è una serratura al solito gioco nostro speed rannissima si si vai 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 dai 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 è buona 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 e vai vabbè eh vai non potremmo blocca niente vai vai parti con il tuo eh si vabbè ovvio però dopo esatto eh si no mi devi togli quello sotto così capito dopo ci abbiamo più tempo ok vai 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 parti parti aspetta capito togli mi quello su amici devo togli io quello così aspetta vai giù vai giù con quello lì io vado giù con questo ecco andiamo andiamo vai 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 passa orca miseria sono sbagliato io sbagliato io vai allora ti devo ti da giù questo orca vacca scusa no ok quello incastrato ok vai 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 queste sono toste beh questo ah ok vai bloccalo ah poi ogni tanto tocca dare un colpetto giù devi dare un colpetto giù te capito io ho capito tutto vai 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 no dall'altra parte ah ok sotto sotto occhio ok vai no me lo devi bloccare me lo devi bloccare dai un colpetto sotto ok vai no tienimelo così tienimelo 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 no basta che me lo tenevi così facevamo va bene tienimelo lascio così non ho capito questo aspetto ah ok io devo ok aspetta aspetta te lo devo spostare questo quello in mezzo esatto te lo devo adattare così vero no come te lo devo adattare si si aspetta ah scusa vai non so non so sicuro mi sa che devo far così poi adesso devo lascia così faccio così adesso va adesso vai vai giù con il boss nooo e c'è quell'altro ah perché ne è andato indietro si si vai quindi vanno indietro si vai vabbè allora aspetta ne vado così e vai giù aspetta orca miseria allora ok ti prego aspetta aspetta un attimo sì perché questo non ok no perché te l'ho bloccati io aspetta un attimo ecco ok torna su con quello lì un attimo vabbè 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 più di così non posso ah vabbè c'è quello ah perché c'è quello ah co2 mi ha sfuggito ah c'è quello che blocca dai 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 aspetta ok adesso faccio così dai dai liberami a posto dai checkpoint non è sicura di aprire trova l'interrettore remoto per disattivare la protezione eh però spero che aderci da checkpoint per me non ce l'ha dato ok trova l'interrettore tu sai dove dove può essere l'interrettore cos'è che mi ha detto ah aspetta l'interrettore della bomba è nascosto ok in te è così dovrei averlo localizzato se lo vedi da qualche parte può darsi si nella bomba c'è un simbolo proprio di una bomba quella vecchio stile per ora no allora perché la bomba me la fa vedi ah ho capito dov'è dov'è è qua interessante allora è qui e allora è nel nodo dove sei te ti dovesse no è nella parte opposta alla bomba si nell'area della bomba e sono dalla parte opposta della bomba sono tutt'altra no 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 in senso opposto nella stessa area della bomba però c'è il senso davanti in fondo davanti davanti alla bomba in fondo ah sempre dentro quella casetta era eh sì sì cioè non so com'è però sì comunque vai lì ecco la tua sinistra la tua sinistra ecco vai dritto ah ok vicino al porto è qua ecco fermateli un attimo ok qui e qua mi serve una persona sempre che c'ha un gigahertz qua per sporcare un altro nodo che è Hans Lim o Felix Clayton c'è Hans Lim un'altra volta ma è già hackerato Felix aspetta in teoria siamo già a posto allora aspetta siamo già a posto faccio connetti se no c'ho Felix Clayton c'ho Felix Clayton vado no 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 non fare niente aspetta eh ho capito ti prego Gesù ecco l'ho detto orca vacca vedi c'è ho troppato eh si come l'ho detto è successo devo sta zitto ma allora che coioce poi questo è complesso farlo tutto di fila eh cioè adesso adesso lo devi fare magari ce l'ha dato magari la bomba ce l'ha già data disponibile oppure noi possiamo partire già col col trasmettitore no solo che dopo che ce l'ha detto possiamo farlo vero sì spero che da appena dopo abbiamo scoperto la bomba da vedere no questo è fallimento totale praticamente no proprio sì niente cazzo bro almeno tipo le prime missioni tipo la 1 che è quella che ti pensa cosa sta per succedere ho dovuto scollegare il cavo perché se no mi si chiudeva la tele e si si chiude la tele mi si spegne anche la plate pensa stavo per mandare in malore a tutto sì sì c'è il checkpoint Dario ma fortuna allora felix ha cambiato questo no torna sinistra torna giù sinistra 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 giù da un'altra parte da un'altra parte il nodo dove tocca cos'era è cambiato torna giù no c'è va giù per le scale cosa che c'è lì qua scale esatto va giù va lì assento sinistra dopo ed è anche era un po' lì anche era lì ok aspetta ti dico che devi fare devi farmi un o un mei come di farmi un tipo mei come proprio corne mei corne mei corne mei corne oppure un dammi trova mei trova mei ecco questo è proprio trova mei un valtaie no sofia van roo no non ce l'ho questi proprio qui dovevano essere è un coso un darren chan darren chan non c'è darren chan eh perché te me ne dici una marea dopo allora il primo com'era corne jennifer c'è 3000 jennifer max mack jenni tong sofia valzang baosing no com'è che hai detto wayne l'ono mei corne oppure ma non è della zona può essere capito eh qua dice che deve essere nelle vicinanze però cinanze non so quanto relativamente eh perché intorno a quel luogo aspetta questo sta hackerando chi è che non l'ho ancora aviso arthur new world valheng no un'altra valheng non c'era anche questo è valzang perché no fa quello che sta arrivando no eh perché non c'è ray plessis lea v questa che era passata chi è che era reninstein che è questa chanel pang grace monberg no grace monberg va bene grace monberg dov'è una rossa dove cavolo è andata finì dai una rossa dove è finita però non è vicina ma ecco ce l'ho la devo fa si vai vai farla non importa fanno uguale sbloccherà andrebbe sbloccare stesso anche se non è vicina ok mette d'ora ti dava due uguali si no una corretta tre errate due corrette due posizioni sbagliate ma sono tutte e quattro corrette come prima quattro giuste ma due posizioni sbagliate ok allora ok adesso vado qui ok l'interruttore della bomba è nascosto eh ok devi andare ok dobbiamo sbloccare questo nodo qua quale quello dietro di te dietro di te dietro di te si quello che sta qui centrale vai oh che è successo attenzione cypher ha schierato una squadra e quindi anche anche in corso droni della città e quindi cosa devo fare non so i droni sono hackerati quindi adesso i droni ti sgamano mi sa si è vero li vedo rossi adesso e quindi e mi serve un aspetto niente adesso io devo andare sicuramente devo andare stealth verso la bomba però prima mi devi dall'inter ah no mi ha sgamato vabbè no adesso tocca di fare ah no no ok adesso sono di nuovo attivi ok sono di nuovo attivi siamo nel checkpoint giusto solo che appena esco mi sgamano ok vai dritto lì c'è un nodo a destra tuo non scendere non scendere torna indietro c'è un nodo lì dritto dritto sinistra no sinistra questo no no quello no più avanti sento un drone che ti sta venendo addosso ah pensavo perché non me lo dava più guarda ma veri sei impallato due o tre volte allora aspetta che adesso ce n'è uno che è davanti a te si ho capito ok vado dove qual è sinistra sinistra tutto a sinistra adesso questo no no è più indietro è più indietro è più indietro ah questo questo qua esatto ok aspetta un attimo non posso c'è il drone in senso muoviti come ti dico e adesso devi andare tu dove sei ok sei lì si va bene vai vai avanti scendi giù scendi giù scendi giù sinistra e destra tu adesso finì fondo destra in fondo e fondi 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 vai 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 adesso sinistra sinistra e lì c'è lì c'è lì c'è lì c'è no no dietro di te dietro di te l'hai superato dietro di te ah ok quello lì ok aspetta e scappa verso di là esatto intanto puoi tornare puoi tornare alla bomba mi hanno sgamato va bene so so la bomba attento io strumento che disinnesco della bomba attivo ok ok apro la bomba porca madonna allora io la posso rotare in 3d fa conto che una roba più difficile così non l'ho mai vista a sinistra e a destra allora ce l'hai la porta di rete dove cominciamo vai dove ti pari la porta di rete vai ok trova l'unico numero non variabile in ogni colonna l'unico numero non variabile ok uno è questo ok uno è questo aspetta questo lo posso fare per i cazzi miei eh sì sì ma soltanto me li dividi ha messo 5 numeri intanto me li puoi di così li scrivo li digito ah 2 5 6 3 8 9 e basta me ne bastano me ne bastano 5 come è possibile ma te che porta c'è io c'ho porto 1 porto 2 porta 3 porta 4 qui segnali io c'ho tipo porte di rete c'ho un codice un pin da 5 numeri se no c'ho preimpostazione dei parametri che è un pin da 4 cos'è che apri in posizione dei parametri cos'è che è un pin da 4 lui c'ho 3 simboli poi c'ho fili con un macello de rova vuoi fa fili fili mi sa che devi far te tutto io devo fa io e fili io allora allora aspetta no me li devi di te io non so quali sono taglia il filop io i suoi fili c'ho c'ho 3 c'ho 3 slot bianchi e basta è una scritta che dice apri è annerita quindi però ciò sblocca mano a mano allora sì sì allora fosse fili non è il primo pulsante di accensione ce l'hai sì ma non è che fa esplode la bomba lo devo preme non lo so premi 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 nel pulsante quando l'ultima cifra sul timer è 2 o 7 premio il pulsante quando l'ultima cifra sul timer è 4 o 9 che vuol dire sì ce l'ho io quando è dimmi te quando è che devo fare o 2 o 7 cioè io c'ho 2 3 4 5 in base a quello che premio numero di lettere nel numero di serie e io posso premerlo col numero che hai detto basta che mi dici io c'ho il numero di serie c'hai come vuol dire numero di serie ma non potremmo fare quello del pulsante ecco è abbandonato però quello del pulsante andava bene io potevo premerlo no ma a me dice io c'ho io c'ho 4 pulsanti io dico dell'accensione in base a quello che seleziono si eh ma te ne scegli uno poi lo fanno e ma lì mi dice di quanti cifra numero di serie 2 3 4 5 io c'ho ah ok c'è una delle quattro è giusta uno dei pulsanti è giusto e allora guarda io ce l'ho in 3d la stavo girando non ho visto ci sarà scritto da qualche parte sto numero di serie poi le porte quello non ho capito perché le porte io c'ho 4 io c'ho 4 colonne ogni colonna corrisponde a una porta e ogni porta c'ha 3 cifre eh non lo so quello che è forse devi fare una somma delle 3 cifre non è vero per esempio i fili sai cos'è i fili è una roba incredibile ci sono 5-6 fili tipo no si e poi c'ho un'ondina e questo è difficile da spiegare una linea che fa su e giù che tipo e nei culi c'è tipo un'onda sai no un'onda come fatta disegnata che non è linea retta quindi va su e giù no un'ondina con un pallino che ci viaggia il loop con un pallino e che tipo quando va nella cunetta super c'è scritto 2 3 4 quindi devo tagliare il momento giusto quando sono nel climax dell'ondina cioè nel punto più alto capito e poi va il loop quindi vuol dire che ci sarà un filo più un'ondina da tagliare tipo taglia il verde quando l'ondina è sul 3 per di che ne so ok cerchiamo di capire apriamoci un po' ah numero seriale ce l'ho numero di serie ce l'ho eh e che numero è c'è quante c'è quante cifre sono 5 lettere e 4 numeri numero seriale ok numero di lettere nel numero di serie 5 lettere si allora ok devi premere il pulsante quando l'ultima cifra sul timer è 1 o 6 cosa vuol dire non lo so però è giusto così il pulsante di accensione da premere quando l'ultima cifra sul timer è 1 ok ok ma non mi è sicuro oh non è fatto poi porta di rete allora porta di rete io ho queste 4 cifre ah porta di rete adesso io ho ho i colori se la porta 1 ha il valore più basso ingresso rosso se la porta 2 ha il valore più alto ingresso blu ti sei ingresso blu ingresso blu vai è la pala il valore più alto la porta se vuoi sapere altre dimmi le altre la porta 3 è l'unico numero dispari no la porta 4 è l'unico numero pari no allora è blu confermo blu perfetto ok modulo bomba sicuro poi c'è un passcode qua quanti numeri da 5 numeri vai 943 aspetta allora devo metterlo nella carica elettrica sto passcode a 5 dimmi un po' penso nella porta di rete eh non ce l'ho più nella porta di rete avevo i colori allora è l'unico con 4 cifre la carica elettrica sennò c'ho i parametri da 4 dai è questo no 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 vabbè la carica elettrica mi dice il numero di batterie sul dispositivo quante batterie ci sono sul dispositivo c'è il mondo per capire sì certo ne devo contare io una due due può essere due io sì c'ho uno due tre quattro io c'ho uno due tre o quattro sono due allora se sono due ok io poi c'ho tre simboli ecco devo fare queste due ah ok per i parametri questo stiamo facendo i parametri giusto no io sto facendo carica elettrica ah carica elettrica giusto io c'ho tre simboli adesso con batterie due io c'ho tre simboli con ognuno un numero e tipo c'è primo al simbolo con una bomba no un sole nella bandagione il secondo c'è un simbolo con un'astronave tipo no col simbolo tipo particellare ok il terzo è un simbolo col fuoco si sono i tre cavi che dovremmo togliere c'è uno è bomba verde uno è particellare blu e quello rosso non lo vedo è fuoco qui c'è un fuoco qui c'è un fuoco io però c'ho un numero di fianco a ogni simbolo e basta c'ho tipo su quello della bomba è nove poi non vedo i colori no io perché questi tre che sono sono i tre cavi principali che poi dovremmo andare a staccare ok questo modulo richiede vediamo i parametri parametri quattro cifre i parametri io c'ho tre simboli uno due tre e c'ho tre simboli diversi e come sono fatti sti simboli il primo è tipo una cometa è quello particellare no questi qui non ce li ho non ce li ho per niente io ho già fatto quasi tutto praticamente c'è un connettore ti posso dire io c'ho un decriptatore di codici vediamo cosa fa se ci premo non mi fa niente ti posso dire magari sicuramente uno ti dirà quanti pin è il connettore no io c'ho un connettore da 5 da 5 pallini ti serve sapere che il mio connettore è da 5 ah c'ho i fili i fili c'è quel con i colori rosso giallo no forse questo è l'ultimo i fili tanto c'è rimasto un fili o i due codici uno da 4 e uno da 5 ok quello da 4 quello da 4 ti dico eh dimmi 4 9 2 3 proviamo questo 4 9 2 3 sì sì mi sono aperte tre bocche con dei simboli strani tipo le r quadrati come li metto simboli tipo lunici tipo digitali quadrati ok tipo allora quanti ne puoi mettere 3 3 sì il primo allora il primo simbolo è una cometa quindi un quadrato tipo che va verso il basso con tre linee verso l'altro sembra una roba che precipita sì in che modo sono convergenti queste linee verso il quadrato sì allora l'ho trovato sì invece il 2 è una L a sinistra una L rivolta al contrario c'è una L verso il sinistra e poi dall'altro a destra due due L tipo una provesciata sì sì l'ho vista sì il terzo una linea sotto e una C sopra al contrario sì vado perfetto mamma mia adesso c'è rimasto solo la carica elettrica i famosi fili di merda ok i fili penso che ha fatto la carica elettrica poi si sbloccano però allora facciamo la carica elettrica carica elettrica sono tra i simboli verde covid per dire no quella bomba spinata esatto e che io c'ho un numero cioè io non vedo neanche il colore io vedo il simbolo con la bomba spinata 9 cioè quello freccia 9 che vuol dire non lo so poi c'ho boh no sto guardando se cambia qualcosa il fuoco ah forse tipo ognuno corrisponde a uno tipo per esempio il covid c'è la bomba verde la bomba che da T9 è sotto il pulsante d'accensione per dire cioè ogni il fuoco è sopra i fili no è sopra le porte di rete scusa ok e quello tu dicevi che ti c'hai un codice a 5 cifre vero da mettere ancora da qualche parte io c'ho quello seriale ah si si lo devo inserire il codice a 5 cifre si vai io ce l'ho 9 4 3 vabbè alla fine ce l'avevi è per sbloccare la carica elettrica 9 4 3 questa è una porta di rete vabbè 9 4 3 8 1 carica elettrica che tre cifre devo posso mettere ah ok il verde ok il verde 9 hai detto la bomba 9 il blu c'è la particella particella 0 e il fuoco 7 yes è fatta ora io ti posso aprire i fili vediamo un po' apri porco 2 lo sapevo dai 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 una sola affermazione vera se il cavo verde è diacente a un cavo giallo tagliare il cavo superiore il blu no non è adiacente non è adiacente se i due fili rossi se i due fili rossi sono adiacenti non sono adiacenti tagli il verde ok se un filo blu è adiacente a un filo verde si tagli il giallo quando circuito due lampeggia ok taglio questo vediamo non mi dico l'ho fatta giusta si finale buono perché c'è anche il cattivo eh quando mi hai detto che il giallo era quello me la so sentita un bel po' a posto guarda questa sarà l'immagine di copertina questa proprio vediamo se lei va via ecco questa questa così con il brofist anzi oppure questa anzi questa perché sono più belli come per di se ce ne come per di che ce n'è un'altra e ci rivediamo un peri shontango 2 si si se la connessione ma dopo la della bomba ma gasato da bestia proprio bello il caso chiuso cypher cioè il caso cypher chiuso poi abbiamo salito a sfida è il dlc che hanno messo ma mi sa che non fa parte della storia però adesso non lo clicchiamo non lo clicchiamo però del destramento di alpi svizzere fa vedere vada lo clicco ma non faccio via ah beh ma è proprio un altro livello in caso fammo un terzo episodio col free dlc dai va bene senza impegno tipo settimana prossima giovedì o martedì perché io pensavo fosse pensavo forse la challenge mode perché si chiama così no infatti si chiama modalità sfida però pensavo forse rifare quelle vecchie con i punteggi per dire con un time attack pensavo invece no ma possiamo vedere cosa è nato no perché io devo tagliare la live bene cioè non c'ho voglia di far vedere una cazzata dove si cazzeggia e basta capito e quindi niente forse la prossima volta faremo la struttura di addestramento sì ma comunque capito sarebbe brutto a parte sì che è stato droppato mille volte è già brutta di base star live però dico non posso far partire il livello che poi manco lo finiamo capito cioè converrai con me che sì sì a posto dopo la gente che fa vede l'episodio questi vanno avanti nell'episodio poi non è incompleto capito non si fa e vabbè dai buona Dario tardi ci vediamo alla prossima adesso io tolgo lo share tanto abbiamo finito e niente comunque è figo a me mi ha gasato senza quest'ultimo pezzo io mi pare da veletto per sbaglio nei trofei che ci poteva essere anche un finale cattivo cattivo se sbagliavo che ne so a tagliare comunque potevamo sbagliare due volte e noi manco una volta abbiamo sbagliato tutto è andato si è incastrato perfettamente allora posto è stato figo sì sì ah sì sì e niente dai io ti saluto allora ti stacchi aspetta prima fammi staccare lo share un attimo e che in caso grazie per chi c'è stato e ci vediamo la prossima forse con la challenge mode a tempo perso se vediamo se ce la facciamo sia con la connessione che con il resto buona buona